italiano della piattaforma europea Ecesp. Volevo menzionare anche la piattaforma Metro Food per quanto riguarda la metrologia nel cibo e nella nutrizione. Sicuramente tra il 2010 e il 2021 la regione Puglia è stata un fondamentale interlocutore per i nostri finanziamenti. Enea ha partecipato ai programmi aiuto alle imprese con tre programmi partecipati, ai programmi di partenariato per l'innovazione, ai laboratori pubblici privati e alla rete di innovazioni con le imprese locali. In diversi settori che vanno dal sviluppo di nuovi materiali, di componenti e dispositivi per l'energia, la sostenibilità e i monitoraggi ambientali. I finanziamenti che nel ventennio trascorso ci hanno visto crescere sono stati principalmente quelli di tipo nazionale come i PON finanziati dal MIUR e dal Ministero dello Sviluppo Economico, le convenzioni con il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, l'accordo di programma di ricerca di sistema elettrico e il futuro programma che ci vede coinvolti di Mission Innovation su temi più specifici di materiali per l'energia. I programmi internazionali che ci hanno visto coinvolto sono sicuramente i programmi Interreg Italia, Albania, Montenegro, vista anche la nostra locazione geografica. I programmi finanziati dall'IT Romaterials come il Regional Center South Italy e diversi programmi di investimenti di innovazione ad alto TRL per la realizzazione di prodotti che portano da un'idea di ricerca alla valorizzazione con la creazione del valore economico. Programmi ovviamente Horizon Europe e H2020 e programmi di networking internazionale come la cooperazione scientifica e tecnologica COST. In portafoglio attualmente per il prossimo triennio o quadriennio abbiamo grossi attività finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico come per esempio la partecipazione al programma Mission Innovation nel settore di batterie, fotovoltaico ed idrogeno, l'accordo di programma di ricerca di sistema elettrico sui materiali per i dispositivi termoelettrici e un progetto PON per quanto riguarda la fabbricazione additiva laser e sostenibile che vede il laboratorio di Brindisi ampiamente coinvolto con le proprie competenze e faciliti economiche. Lo staff come vedete del laboratorio è di 46 unità opportunamente distribuito tra 20 tecnici e 26 ricercatori ben bilanciato tra maschietti e femminucce e questo è importante è un'altra etichetta di qualità che mi preme sottolineare. Alcuni nostri partner li vedete qui nei vari progetti che abbiamo svolto, sono piccole, medie e grandi imprese, sono in cantiere grossi accordi, un accordo con una grossa azienda locale per lo sviluppo e la caratterizzazione del packaging qui a Brindisi, progetti ovviamente con grandi imprese locali e sia ovviamente i consorsi come il CETMA, come il DITNE, il DTA che ovviamente sono delle attività, sono delle organizzazioni in cui Enea partecipa come socio di maggioranza o di minoranza nei settori strategici di interesse. Le università con cui collaboriamo sono quelle che vedete qui e di cui qui in sala abbiamo dei rappresentanti a cominciare dai magnifici rettori e dai loro delegati, l'università del Salento in primis, l'università di Bari, l'università di Foggia il cui rettore è collegato online e il Politecnico di Bari. Ovviamente l'ordine è semplicemente per una vicinanza geografica, l'importanza per noi di collaborare con le università è fondamentale perché ospitiamo studenti e questo ovviamente è necessario potenziare accordi in questa direzione, sia per accordi quadro per ospitare dottorandi, tirocinandi e così via. E niente, questo vi volevo ringraziare per l'attenzione che mi avete dato e adesso diciamo volevo farvi vedere i colleghi che lavorano quotidianamente e che cosa facciamo. Quindi passiamo diciamo da una presentazione slide ad dei laboratori, a un filmato sui laboratori. Spero che sia di vostro gradimento, sperando che l'audio questa volta sia migliore. Grazie. 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 eolica o fotovoltaica, per poi distribuirla alla rete quando ci sono cali di produzione, per esempio di notte. Nel nostro laboratorio abbiamo prodotto con tecnologie sostenibili e materiali di basso costo tutti i componenti di un supercapacitore, cioè gli elettrodi e il separatore. Li abbiamo assemblati per creare un dispositivo che sarà installato su una bicicletta elettrica. In card e stiratoio sono due macchine fatte realizzare su specifiche Enea in grado di simulare quelle che sono card e stiratoio di grado industriale. In realtà le macchine industriali hanno degli incompi e delle dimensioni notevolmente superiori a queste, queste vanno però a simulare il lavoro che fanno questa tipologia di macchine nell'industria. Sono macchine come dicevo prima su scala laboratorio realizzate per realizzare filati o anche altri tipologici di semilavorati tessili di tipo tecnico, cioè quindi non sono quei semilavorati tessili tradizionali che troviamo normalmente per l'abbigliamento, ma specifici, particolari. Andremo ad esempio a realizzare quelli che sono dei tessuti cosiddetti intelligenti o dei filati con caratteristiche fisiche particolari, ad esempio in grado di condurre energia elettrica, di poter essere riscaldati e quindi emanare calore. Le macchine permettono di ottenere un'enorme varietà di prodotti, proprio come sono state configurate noi possiamo variare diversi parametri, ad esempio la tipologia di fibra che ci andiamo a mettere dentro, possiamo cambiare il rapporto tra una fibra anziché l'altra, quindi ha un enorme flessibilità che ci permette di rispondere a quelle che possono essere le esigenze richieste dall'industria interessata ai nostri prodotti. Dalle macchine vengono fuori carda, dei veli, stoppini o filati. Quello che vedete in mano per esempio è un filato contenente all'interno fibra di carbonio. La particolarità di questo filato è quello di, ad esempio, di condurre dei segnali elettrici. Questo filato inserito all'interno di un tessuto può appunto trasportare segnali elettrici derivanti da un sensore o andare ad attuare un attuatore presente sul tessuto. Un'altra applicazione di questi tipologie di prodotti è ad esempio il rinforzo per materiali compositi. Con questo filato si possono ottenere dei tessuti che impregnati con una resina ci permettono di ottenere dei materiali particolari appunto denominati materiali compositi che hanno la caratteristica di essere materiali particolarmente leggeri e in grado di competere con i materiali metallici in termini di resistenza. Da anni, presso il Centro Ricerche Enea di Brindisi, testiamo differenti materiali di origine naturale da impiegarsi come isolanti termocustici. Tali materiali, sia di origine vegetale come la canapa che animale come la lana di pecora, sono sostenibili in quanto realizzati con materie prime e seconde e grazie alle loro proprietà fisiche possono garantire nel settore edilizio risparmio energetico, confort abitativo in totale sicurezza. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di studiare l'isolamento termico, la durabilità e il comportamento al fuoco di questi materiali e valutare sul campo il comfort microclimatico negli ambienti in cui erano stati applicati. Da risultati delle nostre ricerche è emerso che gli isolanti naturali realizzati con canapa e lana di pecora rispetto ai materiali di origine petrolchimica risultano essere competitivi in termini di isolamento termico, più sicuri nei test di reazione al fuoco e più sostenibili in termini di impatto ambientale grazie al ridotto utilizzo di risorse e la loro bassa impronta ecologica. I pannelli isolanti sono stati sottoposti a delle prove di combustione per valutare la reazione al fuoco. Una delle tante prove si effettua con questa camera di combustione, l'infiammabilimetro, strumento mediante il quale si stabilisce la classe di reazione al fiammeggiamento del materiale. La reazione si valuta attraverso la misura del tempo di autocombustione e dall'eventuale distaccamento di materiale incendiato durante il periodo del test. La classe di reazione è quindi un parametro usato per la successiva valutazione euronormativa che stabilisce la destinazione d'uso più appropriata del materiale valutato. Un'altra delle nostre attività è quella di studiare il comportamento dei materiali in condizioni di esercizio. Una volta che questi sono posti in opera, sia che si parli di edilizia residenziale come nel caso di un edificio costruito in calcio e canapolo, sia che si parli di edilizia temporanea come nel caso di ospedali da campo i cui shelter interni sono costruiti con polimeri in biobasit e lana, oppure che si parli di edifici della pubblica amministrazione, come alcune delle nostre esperienze all'interno di scuole di ordine grado e diversi e diverse regioni. Infatti è importante comprendere il loro comportamento per poterne valutare le prestazioni in termine di isolamento termico e alle mie spalle potete osservare dei poster che raccontano della nostra attività. Un'edilizia sostenibile però deve porre attenzione non solo a quelli che sono i risultati prestazionali ma anche alla ricaduta degli interventi sull'ambiente indoor per il benessere e la salubrità dell'utente finale. Infatti per migliorare l'efficienza energetica degli edifici si tende sempre più ad aumentare l'isolamento termico e il ricambio d'aria con l'esterno diventa sempre più difficile. Diversi studi mostrano come una bassa qualità dell'aria in termini di confort e di salubrità dipendenti anche dalle nostre scelte delle abitudini quotidiane abbiano portato a un incremento delle patologie meglio note come sindrome dell'edificio malato e di come queste favoriscano una riduzione della performance lavorativa o un calo di attenzione durante l'apprendimento in aula. Per poter monitorare in situ e effettuare i nostri monitoraggi abbiamo però bisogno di mettere a punto i metodi di misura in laboratorio potendo scegliere anche la strumentazione più idonea. Queste sono alcune delle strumentazioni che utilizziamo nelle nostre campagne di misura e nel caso specifico per la valutazione della qualità dell'aria indoor. Attraverso specifiche reti di sensori possiamo valutare confort microclimatico e qualità dell'aria misurando temperatura, umidità, CO2, intensità della luce, inquinanti chimici e polveri sottili in relazione alle attività al traffico ma anche alla presenza umano. In questo modo è possibile stabilire l'intervallo di accettabilità ai fini del comfort. I risultati ottenuti ci consentono di poter dire che attraverso le strategie di sensibilizzazione condotte e di sorveglianza strumentale si può migliorare la qualità dell'aria negli ambienti indoor e in modo particolare nelle scuole ma è necessario un cambiamento comportamentale a salvaguardia della salute. Il microscopio elettronico a scansione utilizza un fascio di elettroni come sonda. I campioni possono essere di vario tipo nella forma di polveri, film, fibre eccetera. Scansionando con il fascio di elettroni l'area di interesse del campione, i segnali sia formati da elettroni che di raggi X caratteristici che provengono dal campione e sono causati dall'interazione del fascio di elettroni con il materiale stesso permettono di ottenere delle immagini che forniscono informazioni sulla morfologia, cioè sulla forma del campione e degli spettri di raggi X caratteristici che invece danno informazioni sugli elementi chimici presenti. Il difrettometro a raggi X usa come sonda un fascio collimato di raggi X. Si possono analizzare campioni di diversa tipologia sotto forma di polveri, che però viene ben prestata nel portocampione, di film sottili e altre forme. Una delle informazioni che derivano sempre dall'interazione dei raggi X con il campione fornisce informazioni sulla particolare natura cristallina del materiale, cioè se gli atomi sono disposti in modo ordinato regolare e come sono disposti, in quale ordine, ma anche se sono presenti dei difetti nell'impilamento degli atomi stessi. Il risultato sono degli spettri in cui la posizione dei massimi di intensità è tipica e specifica della fase cristallina presente. Lo spettrometro di fotoelettroni mediante raggi X, chiamato anche XPS, sfrutta un fascio collimato sempre di raggi X per fornire informazioni composizionali di tipo chimico da una regione molto superficiale, con profondità al di sotto del nanometro. Da varie tipologie di campioni, infatti, è possibile ricavare degli spettri in cui le posizioni dei massimi di intensità sono specifiche sia dell'elemento chimico, ma hanno anche informazioni del legame chimico che hanno con gli altri atomi vicini. Il microscopio ioni-elio utilizza come sonda un fascio di ioni-elio concentrato sul campione. Possono essere esaminati i campioni sia conduttori che isolanti e scansionando con il fascio l'area superficiale di interesse, il segnale, proveniente da una zona di dimensioni dell'ordine di pochi nanometri, viene acquisito per formare delle immagini con elevata sensibilità, indicative proprio della morfologia superficiale e con un buon contrasto. Il nanotomografo permette di rivelare i dettagli della struttura interna di un campione solido, illuminandolo con un fascio di raggi X, analogamente a un esame TAC medico. Si possono esaminare vari tipi di materiali, dalle schiume poliuretaniche usate come isolanti termici in serbatoi criogenici, fino a strutture metalliche dalla geometria complessa realizzate mediante stampa 3D. Il campione, una volta introdotto nella macchina e una volta accesi i raggi, viene visto da tanti punti di vista, viene fatto ruotare, si eseguono tante radiografie dell'ordine di un migliaio e da tutte queste radiografie si realizza la ricostruzione tridimensionale dell'oggetto usando opportuni algoritmi. Da questa ricostruzione tridimensionale è possibile tagliare virtualmente il nostro oggetto ed esaminarne la struttura interna, un po' come si fa con la TAC su un paziente. In questo esempio si voleva verificare se la struttura stampata fosse conforme a quella disegnata dal progettista. Una delle attività di ricerca a cui ci stiamo dedicando è rivolta allo smaltimento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, anche se smaltimento non è il termine più appropriato perché il pannello a fine vita non deve essere considerato un rifiuto ma bensì può diventare una nuova risorsa. L'obiettivo della nostra attività è quello di recuperare polvere di silicio da solar chips per un nuovo utilizzo. Una volta disassemblato il pannello viene recuperato l'alluminio che rappresenta il 15% del suo peso, il vetro circa il 70% e il restante 15% è composto da uno strato protettivo polimerico e da materiali nobili quali silicio, rame e argento che viene triturato sotto forma di chips che fino a qualche anno fa veniva conferito in discarica. La triturazione è un processo meccanico molto efficace e con un impatto anche energetico molto basso e quindi efficiente. La prima parte del processo prevede un trattamento termico a 600 gradi per allontanare la parte organica per mezzo di un forno a muffola. I frammenti di pannello fotovoltaico ottenuti da un primo pretrattamento di macinazione pirolisi in argon a 600 gradi per un'ora si presentano macroscopicamente disomogenei sia nella composizione che nella forma. Viene effettuata pertanto una preliminare pestellatura all'interno di un mortaio in agata per rendere più omogeneo il tutto e si procede successivamente alla macinazione mediante l'utilizzo di un centrifugo al bolmils. Il processo di combinazione del materiale mediante questo sistema avviene inserendo il campione all'interno di una giara in presenza di un appropriato numero di biglie. Sia la giara che le relative sfere infatti vengono scelte opportunamente in termini di dimensioni, materiali e relativa durezza in maniera che il tutto sia compatibile alla tipologia di polvere da processare. Il grado di polverizzazione ottenuto dipenderà fortemente dalla tipologia del materiale e dalla dimensione delle biglie utilizzate nell'intero processo. La giara con all'interno il materiale da macinare è quindi posizionata all'interno del centrifugal bolmils e mediante l'attivazione di uno switch posizionato sul pannello frontale dello strumento viene avviato il processo di rotazione assiale ad una velocità regolabile tra 0 e 530 giri al minuto. La riduzione delle dimensioni usando questo sistema avviene grazie all'impatti ad alta energia tra le sfere il cui movimento è dovuto alla forza centrifuga, le pareti della giara e le particelle di polvere da macinare che tipicamente ricoprono la superficie di sfere e giara. Questo sistema di macinazione essendo totalmente ermetico ci permette il recupero quantitativo del campione originale e ci consente di ottenere polveri con dimensioni sub micrometriche. La polvere di pannello fotovoltaico così ottenuta viene poi recuperata, dispersa in un opportuno solvente e una precisa concentrazione, sonicate in ultrasuoni e infine posizionata in cuvette per essere sottoposta a varie caratterizzazioni sia morfologiche che strutturali. La preliminare caratterizzazione effettuata sulla polvere riguarda la dimensione delle particelle per valutarne il grado di polverizzazione ottenuta a seguito della macinazione. Il laboratorio si avvale di un granulometro ZSizer ZS Malvern che attraverso un processo chiamato Dynamic Light Scattering misura la fluttuazione dell'intensità nella luce diffusa quando le particelle del campione vengono illuminate da un fascio laser con una lunghezza d'onda di 633 nanometri. I polveri vengono digerite come in uno stomaco in acidi forti e grazie all'energia di microonde. La soluzione che contiene il materiale di viso negli atomi che lo compongono passa attraverso un nebulizzatore che la separa in goccioline e quindi in una camera dove c'è un plasma che vaporizza le goccioline ed eccita gli atomi in essi contenuti. L'energia che gli atomi ci destituiscono quando si diseccitano ci permette di vedere da quali e quanti elementi è costituito il materiale. Per un'analisi veloce di tipo composizionale delle polveri residue sono state effettuate misure FTR. Allo scopo di indagare la composizione superficiale dei grani dove con più probabilità potevano essere rimasti residui di ossidi si è scelto di ottenere gli spetti di assorbimento IR mediante l'accessorio ATR. Tale accessorio che utilizza come cristallo ad alto indice di rifrazione il diamante consente di avere una profondità di penetrazione della radiazione del materiale esaminato di soli 2 micron e permette quindi di ottenere informazioni sulla composizione chimica della superficie del materiale. Gli spetti ottenuti per le polveri residue analizzate sono infatti come i tipici residui in modalità ATR. Gli strutturano visibili che relativi alle gambe serie o e tipiche caratteristiche del componente organico osservati sull'arcizio tra dei processi di trattamento tecnico. Gli strutturano visibili che relativi all'arcizio tra dei processi di trattamento tecnico. Gli strutturano visibili che relativi all'arcizio tra dei processi di trattamento tecnico. In questo caso un fascio vasto è una intensa ronda a 630 m di materiale per ottenere informazioni sulla struttura e sulle caratteristiche del materiale. La spettoscopia roma fornisce uno spettro caratteristico per le specifiche di operazione di monoregola, una sorta di impronta digitale in cerca di identificare una sostanza. Il cavia è sotto a fornire ulteriori informazioni per escerare liberazioni all'interno del materiale che consentono di comprendere meglio la cristallinità dello stesso. Nello spettro rame caratteristico del silicio è presente un picco stretto e intenso a 520 cm. Le distorsioni nel reticolo cristallino del silicio determinano infatti un cambiamento nella forza di legame tra gli atomi, il tipo per cui il silicio morfo è caratterizzato da una banda a 480 cm a meno uno. Il rapporto fra i picchi viene usato come indice di cristallinità. Al diminuire dell'indice di cristallinità viene assorbato uno shift del picco a 520 ed il suo progressivo allargamento. In questo spettro la simmetria e l'elevata intensità del picco a 520 confermano l'elevato grado di cristallinità nella polvere dei solar chips. Cosa intendiamo fare del silicio recuperato dai pannelli fotovoltaici giunti a fine vita? Intendiamo riutilizzarlo per realizzare elettrodi di batteria e ioni di litio, in particolare per realizzare l'anodo in sostituzione della grafite. E poi vorremmo infiltrare con questa polvere di silicio un materiale ceramico che è il carburo di silicio per conferirgli proprietà meccaniche migliorate per applicazioni nel settore dell'automotive. Questa linea di ricerca è nata in collaborazione con Ecodom, uno dei maggiori consorsi per il recupero e il riciclo dei RAE in Italia, adesso inglobata in Aerion, e con due laboratori di ricerca Enea, quello di FENSE e quello di CASACCIA, afferenti alla divisione tecnologie e processi dei materiali per la sostenibilità. In questo laboratorio sviluppiamo sensori di gas per il controllo della qualità dell'aria. I materiali che assorbono le molecole gassose che vengono studiate in questo laboratorio sono essenzialmente nanotubi di carbonio funzionalizzati con metalli, ossidi metallici e altri materiali a base di ossido di grafene. Le molecole gassose che è necessario rilevare sono per esempio biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono e così via, in concentrazioni relativamente in tracce e basse. I sensori di gas a basso consumo e a basso costo vengono normalmente venduti dai produttori e fornitori non calibrati. Pertanto è necessario calibrarli sia in laboratorio, mediante misure di confronto con analizzatori chimici di riferimento, e sia in campo durante le campagne sperimentali, in quanto è necessario considerare gli effetti di interferenza della temperatura ambiente e dell'umidità che possono sfasare, possono dare delle risposte non corrette dei sensori. Quindi, quando si fanno misure sperimentali in campo, è necessario un periodo iniziale di formazione, di training dei sensori per calibrarli in campo. In definitiva, i sensori di gas a basso costo e a basso consumo di potenza sono utili per conferire ai cittadini la consapevolezza dell'inquinamento atmosferico negli ambienti in cui viviamo. È stato un lungo escursus sulle attività, magari forse eccessivamente dettagliato, però ci premeva volerlo condividere con voi. Quindi, questa sessione la concludiamo con questo video. Quindi cedo adesso la parola a Dario per invitare l'altro panel di interventi istituzionali con un cambio al tavolo. Il primo panel, il primo gruppo di ospiti illustri che chiamiamo è il rettore Fabio Pollice, il rettore dell'Università degli Studi del Salento, Francesco Cupertino, che è il rettore del Politecnico di Bari, Francesco Fracassi, che è il delegato del rettore dell'Università degli Studi di Bari, e Pierpaolo Limone, il rettore dell'Università degli Studi di Foggia, si collegherà online. Grazie. 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 Allora, prego, dare la parola al rettore. Siamo molto onorati di averla qui e diciamo a lei la parola per illustrare le molte relazioni che ci sono e ci saranno con il Centro di Cerchenea di Brindisi. Prego. Allora, io mi ringrazio soprattutto per l'invito, perché mi dà la possibilità di tornare a parlare a questa comunità, in questa sede e a dare una prospettiva più che altro. Ecco, io facevo una riflessione l'altro giorno con alcuni colleghi rispetto appunto alle collaborazioni che c'erano state con Enea e devo dire che ce ne sono state molte, significative, però, se devo dare la mia interpretazione, queste collaborazioni sono state quasi sempre il risultato dell'incrocio tra interessi personali, individuali, per carità parliamo di interessi scientifici, attenzione, non altro, però non sono mai stati inquadrati in un progetto. Io credo che siamo fortunati, perché in questo momento l'Università del Salento hanno una visione assolutamente allineata su quello che può essere lo sviluppo della nostra collaborazione e perdonate, perché la cosa è collegata, è lo sviluppo di questo contesto. Guardo il sindaco di Brindisi, presidente della provincia, anche in quanto ricercatore Enea. Io credo che, io appena sono il datorettore, la prima cosa che ho fatto, forse anche prima, ho cercato un contatto con Enea, perché ritenevo che fosse indispensabile, sia per il valore di questa istituzione, va detto subito, sia per l'apprezzamento di molti, io non ne conosco moltissimi, ma molti dei ricercatori che vi lavorano, perché da questo dobbiamo partire. Ora, quali sono le prospettive di questa collaborazione? In larga misura, queste dipendono essenzialmente da due cose, e cioè dalla capacità che dobbiamo attuare subito di mettere in contatto i ricercatori, perché questa è la prima cosa che funziona, secondo me, al di là delle ghiacchiere, questa è una cosa concreta. Dovremmo realizzare nell'arco di un anno, o meglio, dell'arco dell'anno, perché potrebbe potersi, almeno un paio di momenti di incontro tra i nostri ricercatori. E' chiaro che questo presuppone una capacità organizzativa. Io credo che però sia indispensabile che questo accada. Cioè, lo dico molto onestamente, se i ricercatori non si patrano, è difficile che si incroci nei percorsi di ricerca, perché qualcuno come me o come il direttore lo vuole. Io mi ha mandato un messaggio il direttore Morabito, dicendo che mi spiaceva moltissimo oggi non essere qui con noi, un'emergenza lo ha trattenuto quando ho ricevuto questo messaggio ieri, peraltro era a Roma, e l'impressione che io ho avuto però dall'incontro che c'è stato anche con Marco Alvisi, cioè che ci sia oggi una volontà nuova. A me sembra che questo sia già un fatto positivo. Il problema è che questa volontà nuova deve tradursi immediatamente in qualcosa di concreto. Io ho lanciato, questo impegno l'ho preso anche l'altra volta, ho lanciato l'idea di creare e qui secondo me Enea potrebbe partecipare una piattaforma in cui far convergere gli interessi e i percorsi di ricerca di tutti i nostri ricercatori. Ma soprattutto una piattaforma e ce ne sta occupando il mio delegato alle risorse digitali, il professore Patrono, nell'ambito di questa struttura che lui ha chiamato, che ha creato, che si chiama iStore, ma in realtà iStore sta sviluppando questa piattaforma che consente non soltanto ai ricercatori di interagire, ma anche, e questo è un elemento essenziale, alle imprese. L'idea cioè che le imprese possano in qualche modo interrogare questa piattaforma e avere risposta in merito, parlo delle imprese, alle loro esigenze di ricerca. perché la nostra forza è quella di incrociare i percorsi di ricerca dei enti e istituzioni che lavorano sul territorio. Però io vi riporto quello che è successo ieri, adesso è integrazione. Cioè, questo è quello che noi dovremmo fare di routine, diciamo. Ogni anno incontrarci, e io credo che dovrebbe essere anche un momento, perdonate, io sono caratteralmente così, un momento ludico. cioè, a me piacerebbe che la notte dei ricercatori diventasse veramente un momento di incontro tra i ricercatori come è, peraltro, devo dire. No, è aperta all'esterno, però in fondo è un momento nel quale il ricercatore si presenta. E qui faccio, prima di dirvi quello che ho avuto c'è stato ieri alla Crui, che secondo me vi interessa molto, faccio un passo indietro. Un ricercatore universitario, come un ricercatore di Enea, perché non è che cambia molto, non credo che abbia uno stipendio, può diventare un polemico, adesso vedo, no, corrispondente a quello che sia l'impegno teorico, tendo che dopo ci sarà. Cioè, se un ricercatore ama il proprio lavoro, e lavora, lavora sempre, non ci sono sabbi e domenica, non ci sono orari, perché è la passione che ci guida, lo dico da ricercatore, non c'è niente da fare. A fronte di tutto questo è chiaro che poi, dal punto di vista economico, non c'è una grandissima gratificazione, ma perlomeno che ci sia una gratificazione sociale. Noi non siamo stati in grado, e questo è l'unico esempio, a notte dei ricercatori, in cui abbiamo evidenziato qual è il ruolo strategico dei ricercatori del nostro paese, indipendentemente dall'etichetta, dell'istituzione, non si tratta l'Università del Salento, del Salento Enea, sono ricercatori, condividono la stessa passione, spesso gli stessi obiettivi. Questo vuol dire che un'altra cosa dobbiamo fare molto, e questo lo dico anche al sindaco, torno a guardare, al sindaco di Brindisi, è lavorare su questo piano, cioè portare a far crescere l'apprezzamento, la considerazione che le nostre comunità locali hanno per la ricerca. Questa è una cosa che si dovrebbe fare anche a livello nazionale. Troppo spesso si parla male di questa istituzione. Ma questo è una considerazione all'altra. Vengo a un aspetto che a me sembra molto significativo. Ieri guardavo, ascoltavo il presidente della Cui declinare tutte le risorse finanziarie che stanno arrivando nel nostro paese e soprattutto alla ricerca. E devo dire che ero preoccupato. Perché ero preoccupato? Mi spiace, non c'è il dottore Morambito. Ma parlo a te come parlo a tutti voi. E che è la sensazione che ho avuto io. Io adesso vi dico posso utilizzare questo luogo per fare una riflessione insieme a voi che è poi una riflessione sulla prospettiva perché quello che dirò oggi vuol dire che noi domani dobbiamo vederci per dare seguito a questa mia richiesta. mentre lui declinava tutti questi finanziamenti io osservavo il volto dei miei colleghi rettori e la sensazione che avevo è che su molti piani i giochi erano già fatti. Cioè gli atenei forti di questo paese indipendentemente dal fatto che poi gli hub hanno configurazione di volte territoriali uno al nord uno al sud uno al centro poi ci sono progetti territoriali indipendentemente da questo io mi rendo conto di una cosa fondamentale e molti di questi progetti sono delle opportunità ma che tu puoi cogliere a due condizioni anzi a tre che sono collegate uno è che hai le risorse progettuali cioè hai persone che possono mettersi a progettare l'altro è che tu abbia le risorse finanziarie perché devi cofinanziarle devi assicurare la sostenibilità in futuro oltre all'orizzonte del duemila ventise di queste iniziative ed è un'altra difficoltà di fondo perché penso che è molto difficile in alcuni casi la terza che presuppongono che tu abbia già costruito una rete ora perdonate a me non sembra lo dico non in tono polemico attenzione perché sono io il primo ad aver sbagliato ma ci siamo forse incontrati Università del Salento Enea per discutere rispetto al PNRR cosa vogliamo fare no e siete così convinti che in altri contesti del paese Enea invece non abbia intrapreso un percorso diverso sia stato coinvolto abbia coinvolto a sua volta questa è la nostra debolezza la debolezza è che e non è molto distante perché oggi adesso non vedo ancora perché erano tutti impegnati e lì devo dire che il rettore Bronzini peraltro non era neanche impegnato per cui ma vi faccio una riflessione rapidissima una persona intelligente come il professore di Sciascio già rettore ha intuito immediatamente qual era l'esigenza mettere in rete gli attori e lo ha fatto lo ha fatto intelligentemente come però vice sindaco non come rettore perché la mentalità è quella di Sciascio non me ne vogliate è imprenditoriale lo è sempre stato è un imprenditore prestato imprenditore nel senso positivo perché io la vedo come un valore attenzione cioè una mentalità imprenditiva ha realizzato e ha messo insieme gli attori del territorio sindaco io ho provato a fare la stessa cosa intorno al masterplan della terra d'Otranto e a oggi il masterplan noi siamo pronti ma non è ancora partito adesso vi ho convocati per dire ma ci vogliamo incontrare ma questa iniziativa ne abbiamo già parlato per cui Riccardo condivide questa iniziativa è incredibile che non parta proprio dagli attori territoriali parte dall'università ma molte delle risorse non sono per l'università eppure noi le vogliamo mettere a disposizione allora noi oggi dobbiamo quando si chiede quali sono le prospettive io prima ascoltavo molti di questi progetti di ricerca devo dire affascinato perché io mantengo un rapporto con la ricerca di fascinazione cioè a me la ricerca mi entusiasma perché soltanto l'idea che ci sono persone che apparentemente lavorano su cose che sembrano marginali e poi incredibilmente i risultati di quella ricerca diventano strategici per lo sviluppo di un settore economico ma spesso per il miglioramento della qualità della vita più semplicemente parlando di Enea questo è quanto mai vero e allora io mi rendo conto che a me quella ricerca piace il mio entusiasmo ma guardandolo io pensavo ai miei ricercatori non sono gli stessi progetti che portano avanti perché li conosco allora io penso spero che in alcuni casi io lo so che in alcuni casi è così ma in tutti i casi vi sia una collaborazione perché non è che possiamo lavorare parallelamente sulla stessa cosa come il discorso da geografo quale sono dell'economia circolare forse più che parlarne di questa economia circolare dovremmo mettere in piedi dovremmo fare di questo territorio e in particolare lo dico non per viaggeria non perché sono qui a Brindisi voi lo sapete ma se noi vogliamo veramente che la regione e questo dovete dirmelo voi faccia perché questo è un elemento di rimetto il centro per la decarbonizzazione la sostenibilità lo si fa qui o non lo si fa mi dice la sessore delle luci e devo dire che io mi fido della sessore delle luci che si farà ma allora dobbiamo fare cose che siano coerenti noi creiamo il corso di laurea in sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici l'abbiamo promosso troppo tardi per colpa dell'AMBU cioè se voi ci approvate un percorso formativo a giugno ma gli studenti hanno già le loro idee chiare non puoi cambiare però noi la nostra idea è veramente di investire sulla cittadella ma io non posso far venire degli studenti qui perché si avviliscono perché capiscono che siamo un territorio marginale perché non c'è niente da fare e lo dico da geografo qua è mia competenza il contesto determina i comportamenti l'altro giorno ho introdotto un convegno di psicologia clinica e dinamica loro studiano il rapporto fa individuo e contesto vi impressionereste a leggere le conclusioni di queste il contesto determina i comportamenti spesso li orienta io credo che questo contesto li orienta in senso depressivo in alcuni casi mi perdonete ma questa è la bisogna essere coerenti non c'è niente da fare allora noi se vogliamo veramente fare una cosa di qualità dobbiamo creare qui un laboratorio di economia circolare un laboratorio di sostenibilità dobbiamo coinvolgere tutti solo se noi dimostriamo a noi stessi in primo luogo e al paese che siamo in grado di costruire un progetto organico su questo allora siamo in grado anche di coinvolgere le comunità e se Mesagna presenta la candidatura a capitale italiana della cultura noi la sosteniamo ma noi dovremmo candidarci ad essere il primo territorio sostenibile perché questa è la sfida noi che siamo stati vessati da una politica di infrastrutturazione industriale completamente scardinata scollegata da quelle che erano le potenzialità e le vocazioni del territorio ma soprattutto sempre in ritardo rispetto a quello che stava accadendo noi abbiamo industrializzato dei territori con dei settori delle tecnologie che erano già all'epoca obsolete oggi ci stupiamo che queste non abbiano prodotto sviluppo Enea è una delle poche realtà cioè dove c'è Enea perdonate voi me lo dovresti dire anche voi dove c'è Enea vuol dire che c'è un un progetto di innovazione territoriale ancora prima di tecnologica perché Enea è un motore di innovazione e soprattutto quando parliamo oggi di sostenibilità io mi aspettavo mi sarei aspettato che quando si parla di PNR come lo direte voi Enea fosse al primo posto perché se tu mi dici che la transizione digitale la transizione ecologica la conseguenza allora Enea è uno dei partner strategici delle due l'una se io non sono venuto da voi e voi non siete venuti da me vuol dire che nessuno dei due ha avuto un input da qualche parte cioè che siamo assolutamente secondari allora se vogliamo cambiare dobbiamo fare rete dobbiamo costruire rete e capire come possiamo presentare un progetto innovativo ieri si parlava su ogni asse di milioni centinaia di milioni allora la domanda è queste risorse cosa riusciranno a portare in questo territorio e in questa istituzione cioè Enea che ruolo vuole avere in questo progetto voi mi chiedete quali sono le collaborazioni io vi dico che non è il problema di collaborazione il problema è di un progetto strategico da darci e l'esempio dell'economia circolare di cui abbiamo già discusso in passato è un esempio secondo me fondamentale su cui possiamo lavorare non si tratta soltanto di tecnologie si tratta di processi di percorsi che ovviamente devono coinvolgere diversi attori io tutto questo però non c'è alcun pessimismo io invece per natura sono ottimista ma vi dico che credo veramente che se noi incominciamo a sederci intorno a un tavolo noi lo faremo tra qualche giorno il quarto se non erro ci vediamo senza cercando di evitare qualsiasi forma di campanilismo perché è evidente che c'è una competizione oggi folle Taranto Brimbi si legge è un po' diciamo perché è lì che si gioca lo sviluppo secondo me della Puglia questo è la vera e lo dico da ormai leccese di adozione salentino di adozione ma perché io ho una grande attenzione per Brindisi perché io penso che questa città questo territorio quel potenziale di sviluppo non l'ha ancora espresso Lecce in larga misura l'ha fatto l'ha fatto scegliendo una poi potrà migliorare ma quello che io leggo è che oggi qua c'è una grandissima potenzialità e forse rispetto a Taranto il vantaggio di Brindisi è di avere condizioni sociali che è stato detto altra volta e ambientali forse migliori di partenza cioè Taranto ha bisogno innanzitutto proprio di una rinascita radicale Brindisi secondo me manca poco sapete come se la sensazione che io è che manca poco per fare sbocciare il fiore non ci vuole molto ci vuole proprio una grande collaborazione ora proprio secondo me quella sorta diciamo di documentario che avete presentato è importante perché in un arco di tempo molto limitato io ho la possibilità di capire tutto quello che fa Enea è una una summa un sunto evidentemente però per uno come me diventa fondamentale perché non è che ho competenze specifiche posso avere delle intuizioni ma non ho competenze per portarle avanti dunque noi dobbiamo organizzare subito un tavolo per capire rispetto alle risorse che stanno arrivando che cosa vogliamo fare ma c'è di più questo lo dico a Enea e lo dico a me stesso riflettevamo l'altro giorno con diciamo persone quelle che si dice che contano io sorrido perché ho sempre pensato vi faccio una confidenza anche perché posso vi bloccate i miei quando volete ma io ho sempre pensato che da quando ero bambino ma questo paese bisogna cambiarlo ma chi lo deve cambiare io non posso cambiarlo io oggi penso con un po' di presunzione che facendo il rettore di università se io non mi convinco che io posso cambiare questo paese ma chi dovrebbe farlo pensiamo c'è c'è il ministro dell'università e poi ci sono i rettori allora e i rettori siamo noi che possiamo cambiare se non ci riesco come rettore se non riesco a imprimere un cambiamento a questo territorio e vuol dire che ho qualche problema io non il territorio perché c'è sempre lo strumento delle divisioni se non sono in grado di portare avanti un progetto di sviluppo detto questo l'interrogativo che è nato l'altra volta è nato a Martina Franca con un parlamentare ma poi vi sono incontrato con altri ne ho parlato è che tutti parlano delle risorse del PNRR ma nessuno parla delle altre risorse quelle liberate dal PNRR cioè adesso poiché nessuno è in grado di spendere queste risorse e di impegnarle entro il 2022 con orizzonte 2026 la domanda che faccio a tutti voi le risorse a questo stanno facendo tutti i progetti che tutti hanno nel cassetto diciamo tu c'hai qualche progetto nel cassetto mettiamolo sul PNRR ma quel progetto è finanziato quel finanziamento dove andrà la sensazione che ho io e che mi è stata confermata è che se non ci attrezziamo a sviluppare un parco progetti vuol dire anche nel cambio della ricerca dei progetti di ricerca pronti lì fortemente innovativi ma pronti appena usciranno quegli altri bandi che noi non conosciamo neanche noi non avremo nulla da presentare ecco perché è necessario costruire una collaborazione perché Enea Università del Salento e lo dico può sembrare per alcuni strano Politecnico di Bari Università di Bari Università di Foggia noi tutti insieme dobbiamo lavorare perché qua non c'è più competizione possibile fra di noi dobbiamo lavorare insieme ieri alla cui ho detto a Matteo Lorito rettore dell'Università Federico II nella quale io mi sono lavorato ho detto Matteo o noi ci accordiamo e facciamo un progetto progetti insieme Puglia e Campania oppure resteremo fuori da tutto per cui è inutile farci la guerra una competizione mettiamo 190 euro e vediamo cosa va a te perdonate la franchezza e cosa va alla Puglia Campania e Puglia non c'è verso come disse Gaetano Manfredi disse Fabio quando io diventavo lettore andrei a trovare la lista Gaetano Manfredi la presidente della Cui non ministro il futuro del mezzogiorno si gioca su quell'asse se tu riesci a fare dialogare queste due regioni queste due culture questi due grandi centri di sviluppo del mezzogiorno del paese allora su quest'asse si gioca il futuro dobbiamo pensare che è questo quello che dobbiamo fare allora chiudo l'intervento dicendo sono stato un po' prolisto come sempre domani non so domani poi ci sentiamo e vediamo quando è domani però dobbiamo un attimo capire se ci sono delle opportunità di collaborazione su alcuni assi del PNR bisogna scorrere e dire su cosa vogliamo collaborare perché sono convinto che solo così potremmo restituire anche entusiasmo ai ricercatori può essere che i soldi non li prendiamo ma perlomeno ci abbiamo provato questo è quello che chiedo perché non è accaduto perché l'università del Salento non è andata a Renea non è vero ci siamo visti precedentemente è che su questo discorso del PNRR nessuno di noi sa veramente cosa fare adesso partono i primi bandi anzi ieri mi hanno detto più che bandi adesso saranno pubblicate le linee guida dal ministero per tutto quello riguardo alle risorse che vanno alle università e dagli enti di ricerca queste linee guida ovviamente qualcuno secondo me o dico non dico che già le ha ma insomma un'idea se l'è fatta io non ce l'ho altrimenti la condividerei con voi sicuramente ma l'idea è che appena escono queste linee guida noi abbiamo già la cabina di regia le leggiamo le facciamo leggere ai nostri ricercatori e decidiamo dove andare insieme perché non c'è alcuna altra possibilità perché se mettiamo insieme Enea l'Università del Salento il Poliba e altri enti di ricerca CNR come abbiamo fatto IT allora diventiamo più dinamici diventiamo più propositivi io vi faccio un esempio dove a me dispiace perché Enea non ci sia ma per me Enea è l'interlocutore lì l'ho sempre detto quando abbiamo pensato al Salento Biomedical District immediatamente io ho pensato perché avevo incontrato Enea che Enea dovesse farne parte poi per una serie di ragioni CNR IT e Metronic abbiamo creato questa struttura ma lì quel Salento Biomedical District che oggi è una scatola che si sta riempendo di contenuti lì ci deve essere anche Enea io su questo non ho dubbi ci deve essere con dei progetti che sono chiaramente sul biomedicale ma io ricordo perfettamente che ci sono alcune linee di ricerca e qui veniva in qualche modo richiamato che hanno un'attinenza diretta e indiretta con quel settore ecco perché dico quello è stato un esempio in cui abbiamo cercato di fare rete e forse perché non c'erano le condizioni oggi le condizioni ci sono dopo un anno e mezzo io penso che l'interlocuzione che si è aperta con Enea mi fa essere fiducioso sul fatto che le relazioni saranno sempre più stabili e collaborative questo è quello che io penso dello sviluppo che ci attende daremo concretezza a breve individuando progetti su cui veramente lavorare insieme spero che questa indicazione se non altro vi abbia aperto una prospettiva non dico più serena ma più entusiasmante perché i ricercatori quando sono soli spesso devo dire la mia impressione anche come ricercatori la depressione dietro l'angolo perché non sai mai se quello che sta facendo avrà un risultato avrà una spendibilità sul mercato avrà un riconoscimento sociale quando però incredibilmente incontri altri ricercatori lavori insieme ti vedi anche a pranzo a cena alle volte cambia l'orizzonte perché capisci che quella passione che hai quell'entusiasmo che quel progetto e anche quelle preoccupazioni sono condivise da altre persone come te e allora questo ti dà secondo me una forza maggiore ecco perché sono sicuro che incontrandoci collaborando anche sul piano psicologico ne guadagneremo moltissimo vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti per questo sprone entusiastico al prossimo ventennio quando la sentivo parlare mi associavo diciamo la situazione del mondo della ricerca un po' al sistema neuronale perché nel corso degli anni con pochi indirizzi con poche risorse è come se i neuroni avessero perso i collegamenti dendriti mi è stato spiegato ieri dal presidente della CRUI che la regola vuole che se l'uditorio è a più di tre metri chi parla può togliere la mascherina i cosi miei mi hanno detto questa è la regola io devo dire non l'avevo ancora capito però mi è stato detto chiaramente al presidente della CRUI dunque chi parla può togliere la mascherina quindi lei mi invita a toglierla comunque sì veramente grazie per il tono lo sprone lo sprone che ci ha dato purtroppo anche un'altra considerazione che mi facevo è che questo è un paese che oggi porta le mascherine perché per il seguito diciamo della pandemia è un paese che ci ha le mascherine da tanti troppi anni quindi una visione superiore sarebbe era meglio il passato una battuta era meglio il passato diciamo il prosciutto sugli occhi è già una cosa migliore invece oggi la mascherina è triste però però devo dirlo comunque grazie di nuovo ma siccome c'è adesso il dottor Acerno che si vorrebbe collegare credo online e credo dall'evento di Grottaglie quindi è il caso magari di venirli incontro e passargli subito il collegamento grazie buongiorno 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 non so se riuscite a sentirmi sì sì ti sentiamo buongiorno buongiorno a tutti buongiorno al presidente di Aluce buongiorno al sindaco Rossi buongiorno a tutte le istituzioni al presidente Emiliano se c'è ai magnifici tettori ai tanti colleghi che sono coinvolti direttamente come relatori ma anche come uditori dell'iniziativa io mi scuso per l'essere a distanza credo che le motivazioni siano note vista l'introduzione fatta dal presidente però era importante poter avere la possibilità di dare un contributo ma soprattutto una testimonianza e questo è il mio fine oggi lo faccio qui da Grottaglie che credo possa anche essere un elemento diciamo riassuntivo di richiamo di alcuni concetti che credono siano alla base di questa esperienza che il distretto ha vissuto in questi anni con i suoi soci con i diversi soci e tra questi anche e certamente con l'Enea di Brindisi noi abbiamo avuto tre giorni anzi abbiamo questo è il terzo giorno molto gravi di tante cose di dibattiti di incontri di contatti di dimostrazioni di presenza di grandi imprese le grandi multinazionali aeronautiche e spaziali hanno deciso di venire non solo a confrontarsi ma a portare avanti ulteriori aggiornamenti su una possibile valorizzazione ulteriore della Puglia in questo settore quindi tanta tanta roba e tanta carne al fuoco che tuttavia ha un presupposto ha un presupposto che non sono altro che questi anni dell'attività del distretto che da un lato diciamo ha partecipato con questo spirito di collegialità all'organizzazione del Mediterraneo Aerospace Matching con un pieno coinvolgimento di una comunità che non è fatta solo dai suoi soci ma anche da altri attori che hanno concorso al successo di questa iniziativa che abbiamo ideato progettato e in gran parte realizzato ecco direi una collegialità che non è frutto altro di un'abitudine che abbiamo maturato nel tempo d'altronde il distretto non vuole essere altro che un'esperienza che parte dall'idea che questa competizione tra territori la si possa vincere o si possa comunque avere forza di affrontarla fin tanto che i diversi attori riescono a integrarsi ad fare squadra ad valorizzare le proprie peculiarità con tutta l'attenzione poi che quotidianamente si deve mettere a non entrare in campi e competenze che non sono propri ecco direi che questo molto spesso viene ricondotto a una parola esultante che è quella parola usata a volte abusata di sistema certamente più che una realtà dal mio punto di vista in questo paese è ancora una tendenza però mi sia concesso dire che poi la chiave di lettura del risultato di questa esperienza per quanto misurabile cioè quella del distretto risiede proprio in questo in uno sforzo quotidiano in un contesto tra l'altro non semplice quello del mezzogiorno con tanti attori autorevoli e con diciamo la capacità di costruire un clima di affidabile collaborazione come in questi anni è avvenuto è una società a prevalenza di capitale pubblico per quanto privata e per quanto gestita dal punto di vista esecutivo in una logica più privatistica questo fu un ingaggio all'atto della Costituzione la proprietà pubblica ma la maggioranza del Consiglio di amministrazione privata era un'idea di poter come dire comporre una forma di governance che fosse quanto più funzionale alla missione che ci eravamo e ci eravamo dati ed in più in questa composizione direi che il ruolo delle università è stato particolarmente importante come quelle dei centri di ricerca il CNR ed l'Enea ritorno a dire perché poi noi fin dall'inizio abbiamo fatto un ragionamento molto semplice c'è tanto valore in questa regione almeno 15 anni fa ce n'era già tanto ma erano soprattutto le grandi industrie dell'aerospazio e come facciamo a far sì che questo valore si preservi e l'aerospazio è un settore ad alto contenuto tecnologico preservarlo significa avere componenti tecnologiche nei servizi nei prodotti nei processi molto alte significa stare sulla frontiera dell'innovazione quindi noi abbiamo allora introdotto un percorso che in parallelo alle caratteristiche produttive della Puglia che erano sostanzialmente le aerostrutture ha dato vita ad un'attenzione a una crescita su altri su quelle che erano tecnologie innovative quella del volo autonomo o della guida autonomo o dell'advancer mobility come voglia chiamarsi quella dell'osservazione della terra e dell'utilizzo dei dati un ultimo anche la valorizzazione del trasporto spaziale commerciale attraverso l'infrastruttura di grottaglie se questo è accaduto perché la componente dedicata alla ricerca e allo sviluppo ci ha messo nelle condizioni di potere quindi tutti i soci e tra questi ovviamente anche l'Enea senza voler distinguere tra nessuno ci ha messo nelle condizioni quindi di costruire un percorso di consolidamento di queste direttrici di specializzazione che ci hanno portato oggi quindi a organizzare un Mediterraneo Aerospace Match che si basa su queste cose si basa su questa capacità di lavorare insieme di fare sistema che abbiamo messo a punto e abbiamo allargato ad altri attori in questa organizzazione di evento ma anche sulla diciamo le sfide tecnologiche industriali oggi all'ordine del giorno che sono quelle di cui vi ho parlato e che hanno caratterizzato i tre giorni dei Mediterranei Aerospace Matching noi purtroppo abbiamo il dovere di essere dei first mover l'innovazione nel mezzogiorno diciamo trova di sicuro un sistema non così solido come in altre realtà è chiaro questo non ci spaventa tant'è che siamo costantemente impegnati in ciò però la consapevolezza di queste difficoltà è piena e mi sembra di poter dire però che l'auspicio è che questo possa essere anche un qualcosa è un'esperienza misurabile nella sua immaterialità cioè nella misura di poter dare una testimonianza al valore ritorno a dire che la collaborazione tra i soci l'integrazione e soprattutto l'innovazione possano essere come dire motore del cambiamento e del progresso della nostra società in particolare il riferimento all'Enea più vivido è l'opportunità che mi è stata data in un recente convegno in Grecia è invitato come dire a raccontare anche questa relazione tra l'aerospazio e l'economia circolare è avuto modo anche di raccontare diverse delle iniziative progettuali anche alcune in cui non ci siamo e sono frutto delle vostre competenze del vostro percorso naturale e quotidiano e comunque delle esperienze che appunto richiamano concretamente in attività progettuali di collaborazione ne abbiamo diverse in corso come il contributo che viene dalla Puglia a questi temi è un contributo che deriva anche e soprattutto dalle competenze dei soci in questa circostanza da quanto un ente che ha una focalizzazione sui nuovi materiali possa dare contributo in un mondo in cui le sfide della sostenibilità partono da un raggiungimento di risultati definiti a livello comunitario e che sicuramente trovano nei nuovi materiali una modalità per garantire una migliore sostenibilità sono veramente diverse le iniziative in corso con gli amici i colleghi con il socio Enea e credo che ci siano tutte le condizioni per consolidare questo percorso e cito esclusivamente per completezza anche per quanto il CETMA goda di una sua autonomia diciamo è un suo autonomo percorso anche il CETMA è che riconducibile ovviamente alla famiglia Enea saluto il presidente Saponaro il direttore che ritengono siano presenti lì con voi io non riesco a vederlo ecco anche in questo il rapporto di collaborazione è stato altrettanto stretto e sono misurabili le occasioni progettuali che ci hanno visto partner ecco l'auspicio è che tutto ciò possa continuare ad essere io dico un buon esempio e questo ci è stato riconosciuto in tanti contesti anche la medaglia ricevuta dal presidente della Repubblica per l'organizzazione del Mediterraneo Aerospace Matching o l'avere il governo voluto fare di questo uno dei tre giorni del Space Week che si svolge durante il vigivente a presidenza Italia mi credo credo siano ulteriori testimonianze di come ciò che in questi anni è stato costruito e possa essere importante importante per la Puglia e in ultimo direi importante anche per i tanti giovani che poi forse sono almeno dal mio punto di vista il terminale ultimo di questo grande sforzo e con l'auspicio che il loro futuro possa essere sempre più ricco di un contenuto culturale ed direi anche intellettuale orientato al progresso e al cambiamento grazie anche all'utilizzo della tecnologia e all'utilizzo dell'innovazione io mi scuso per questa assenza fisica per me è stata un'opportunità essere con voi e oltre che avere il piacere vi devo ringraziare perciò e purtroppo non potrò continuare a seguire perché noi siamo quasi in conclusione quindi io sarò chiamato a concorrere alle conclusioni ma per certo oggi pomeriggio avremo un'ulteriore testimonianza e quindi sono contento di poter continuare che il distretto possa continuare a dare un contributo anche a questo importante evento da voi organizzato ringrazio ringraziamo il professor Racerno e diciamo la visione che ci ha voluto dare su questo asse rilevante dei prossimi anni che sarà quello della spesa economy e ci auguriamo che le opportunità di interazioni già attive sui materiali si possano rinforzare con connessioni con l'economia circolare che l'è citato e colgo l'occasione per confermare l'augurio che per il miglior successo dell'evento che state conducendo a Grottaglie buon lavoro e grazie della presenza anche se online grazie bene buongiorno salve è arrivato il professor il professor Cupertino però avevo promesso l'intervento al professor dobbiamo regolare sì d'accordo ma posso anche aspettare vabbè tanto io non mi mettete in imbarazzo vabbè allora vado io io sono un chimico per cui sono molto schematico poche parole innanzitutto vi devo apporgere i saluti del magnifico rettore dell'Università di Bari Stefano Bronzini che mi ha chiesto di rappresentarlo perché è stato trattenuto fuori sede da improcastinebili impegni istituzionali e io prima di andare avanti devo però subito fare un commento sulla l'intervento del magnifico rettore dell'Università del Salento perché mi trova perfettamente d'accordo su vari diciamo aspetti del suo intervento lo dico subito perché a una certa età e poi mi dimentico quello che devo dire soltanto per questo e volevo innanzitutto precisare che il vice sindaco della città metropolitana di Bari ha già da tempo fatto rete e ha convocato dei tavoli tecnici in cui tutti i portatori di interesse lo dico in italiano che è molto più bello secondo me e quindi università centri di ricerca locale sindacati eh e tanti altri eh enti nonché le industrie sono stati messi insieme in un tavolo e abbiamo elaborato una serie di tematiche che riteniamo strategiche con accanto ai centri di ricerca le aziende perché noi possiamo fare rete e dobbiamo fare rete sono perfettamente d'accordo ma non dobbiamo dimenticarci che ci devono essere le aziende io aspetto con ansia di leggere queste linee guida e sono certo che qualcun altro già ce li ha geograficamente magari ubicato più a nord queste entità rispetto non dico la Puglia magari anche a Roma no? eh perché la mia impressione è che si potrà fare tutto ma ci dovranno essere le aziende come tra l'altro accade adesso già e questo diciamo un po' mi dispiace sapete perché? perché il nostro sistema di finanziamento per la ricerca oramai da molti anni prevede sempre che nei progetti ci siano delle aziende e che tranne ovviamente bricciole e che ci sia sempre un qualche cosa che preveda già bene il tipo di applicazione industriale eh noi partecipiamo a tanti progetti come anche Nea e sapete che siamo insieme in tanti progetti e sapete che è così questo che vuol dire? vuol dire che a volte si perde l'opportunità di esplorare le potenzialità di idee ancora in fase embrionale questo è riservato solo ad alcuni canali particolari di finanziamento io mi auguro che queste cose cambino perché secondo me perdiamo un po' di occasioni e adesso andiamo al mio intervento vero che diciamo riguarda più che altro i rapporti tra l'Università di Bari e l'Enea passati e futuri quando sono stato delegato diciamo sono stato particolarmente felice perché tra i docenti dell'Università di Bari ripeto io sono un chimico afferisco al Dipartimento di Chimica dell'Università tra i docenti dell'Università di Bari io sono sicuramente quello che intrattiene rapporti con l'Enea da più tempo ho iniziato lo ricordo benissimo nel 1986 quando fummo chiamati giovane ricercatore fummo chiamati per un percorso formativo per tecnici e ricercatori del centro di Policoro Trisaia credo si chiami così perché in quel periodo Enea decideva di entrare pesantemente nel settore tra virgolette dell'ambiente e quindi aveva deciso di riconvertire un po' di professionalità e fummo chiamati a erogare un po' di formazione per trasferire le nostre conoscenze conoscenze in campo chimico barra ambientale subito dopo è iniziata invece una lunga e proficua collaborazione a livello di ricerca abbiamo fatto tanti progetti di ricerca con l'Enea finché è stato costituito questo centro e ricordo ancora abbastanza bene che alcune persone di questo centro sono addirittura venute da noi dall'Università di Bari come credo siano andati anche ad altre università per fare della formazione per acquisire delle conoscenze che noi già avevamo da tanto tempo qualcuno è anche presente in questa stanza di quelli che sono venuti da noi tanti anni fa e poi man mano che l'attività è proseguita ecco che i progetti comuni sono stati col centro di Brindisi ma tantissimi tuttora l'Università di Bari credo che in questo momento ne abbia in corso almeno tre che sono in corso quindi diciamo c'è stata questa interazione diciamo molto molto intensa ecco in che cosa consistono queste collaborazioni nell'ambito di un progetto come sapete ognuno fa qualcosa diciamo che normalmente a parte il discorso relativo ai modelli matematici che diciamo sono molto molto importanti essenzialmente queste collaborazioni possono essere suddivise in due grossi filoni in genere ci siamo quasi sempre occupati di materiali e processi innovativi processi e materiali innovativi diciamo di due tipologie o materiali e processi innovativi in sostituzione di materiali e processi esistenti in modo da ottenere diciamo risultati dal punto di vista ambientale molto spinti e quindi riduzione nella produzione dei rifiuti riduzione nelle emissioni in atmosfera e riduzione nella produzione di reflui allo stesso tempo processi più efficienti e quindi riduzione dell'uso delle risorse stiamo nello sviluppo sostenibile per intenderci no? l'altra diciamo l'altro grande settore invece riguarda nuovi materiali nuovi processi quindi non più qualcosa che sostituisce processi materiali già consolidati e qui si entra nel settore dei materiali multifunzionali nel settore dei materiali nanostrutturati si riesce in pratica a inserire all'interno dello stesso materiale più funzionalità e quindi magari riuscire abbiamo visto anche un esempio nel filmato che è passato prima riuscire a avere dei materiali che possano allo stesso tempo assicurare una purificazione dell'aria e essere più isolanti dal punto di vista termico e così via tante e tante possibilità tante e tante applicazioni in vari settori anche nel campo d'aerospazio uno dei progetti che abbiamo in corso nel campo dell'aerospazio abbiamo anche collegato collaborato col CETMA che diciamo nel quale Enea ha un ruolo veramente importante dal punto di vista della ricerca i risultati sono stati molto soddisfacenti a mio avviso e così come accade spesso alcuni risultati meno buoni altri buoni altri molto buoni e qui apro un discorso che non ha più a che fare con quelle che sono state le interazioni tra Università di Bari ed Enea in generale negli ultimi vent'anni tutti i programmi di ricerca di un certo rilievo sia a livello nazionale che regionale che comunitario prevedono sempre il partner industriale come vi dicevo prima è necessario che ci sia ben inquadrata quale potrà essere l'applicazione industriale a volte la ricerca raggiunge dei risultati veramente notevoli quasi pronti per l'impianto pilota e poi per la futura industrializzazione ma specialmente quando abbiamo a che fare con progetti che attengono alla riduzione nella produzione dei rifiuti o meglio ancora al riciclo e al recupero dei rifiuti ecco che allora la realtà è ben diversa nel momento in cui l'imprenditore decide di portare avanti questo suo programma e provare a vedere se l'applicazione industriale è realmente fattibile ed ecco che si deve scontrare con quelli che sono quelle che sono le lentezze della pubblica amministrazione ecco succede specialmente quando abbiamo a che fare con rifiuti come si sente la parola rifiuti tutti quanti si attivano siamo tutti bravi a dire dobbiamo recuperare rifiuti è vero però poi quando presentiamo dei progetti ecco che vengono bloccati perché perché magari succede che queste società hanno bisogno di fare delle sperimentazioni intervenendo nel loro ciclo produttivo e magari si tratta di aziende che sono soggette all'autorizzazione integrata ambientale alla valutazione di impatto ambientale che sono degli strumenti eccezionali insostituibili di tutela dell'ambiente quindi per poter fare qualsiasi nuova sperimentazione nella loro azienda e poi decidere se effettivamente si può modificare la produzione ecco che devono modificare le loro autorizzazioni quindi passare attraverso questi strumenti che come ho già detto prima sono eccezionali per la protezione dell'ambiente ma che in realtà si dimostrano degli eccezionali strumenti di tortura perché a mio avviso non si è ben capito da parte di chi poi deve gestire tutte le procedure qual è lo spirito e quale deve essere l'obiettivo di questi strumenti di controllo e quindi molto spesso non sempre per fortuna ci si trova innanzi a delle richieste assurde l'imprenditore molto spesso se il ritorno economico previsto non è elevato decide di soprassedere per non parlare poi della lentezza di recente qualcosa che ci è accaduto proprio pochissimo tempo fa a conclusione di un interessantissimo progetto industriale l'azienda ha deciso di provare la sperimentazione quindi un impianto pilota ha avviato la procedura di screening di valutazione di impatto ambientale cioè stabilire se è necessario o meno la legge prevedeva 90 giorni ha avuto la prima risposta dopo 400 giorni se vi fate un giro sul sito del ministero troverete tantissime situazioni di questo genere e quindi concludo dicendo noi come università centri di ricerca facciamo tutto quello che vogliamo fare perché questo lavoro a noi piace e lavoriamo di sabato e di domenica il magnifico rettore Pollice sa che è così e l'ha detto e tutti noi lo sappiamo però spesso il nostro lavoro non solo non è adeguatamente remunerato ma non voglio entrare nel merito ma soprattutto non riusciamo ad avere neanche la soddisfazione di vedere concretizzato il risultato del nostro lavoro in qualche cosa di realmente produttivo noi continueremo a fare il nostro lavoro l'unica speranza che abbiamo è che prima o poi le cose cambino ci sono un paio di decreti di semplificazione per accelerare non è cambiato ancora niente ve lo dico il primo è già da un bel po' di tempo speriamo però che cambi perché altrimenti diciamo non lavoriamo bene grazie della vostra attenzione le sottolineature che ha fatto anche sulla collaborazione con l'industria che sta molto a cuore però e non trascuriamo secondo me anche come dice la puntare all'industria che ancora non ci sono perché su quelle diciamo gli enti di ricerca l'innovazione diciamo così è una bellissima integrazione devo dire che grazie alla politica regionale ci sono molte nuove aziende che sono nate start up e così via e io per mia diretta esperienza ho constatato che alcune aziende non pugliesi hanno aperto delle sedi qui in Puglia produttive anche grazie ai vari incentivi e per fortuna ogni qual volta che bisogna iniziare una nuova iniziativa scusate il gioco di parole c'è sempre è sempre previsto che ci sia una parte di ricerca affinché si possano avere i finanziamenti speriamo che si risolva anche il problema della crescita delle start up perché quello è un po' la valle della morte è un problema onnipresente il momento in cui bisogna aumentare gli investimenti per far crescere le imprese ovviamente scegliere ancora di più l'obiettivo e quindi andare avanti in quello che si definisce di tutto per convogliare questi fondi rilevanti è un problema tuttora da risolvere soprattutto in un paese povero di risorse finanziarie come l'Italia attualmente a meno che il PNRR non porti non porti considerevoli novità e si è speso bene perché il problema è solo avere disponibilità finanziaria non cito le parole di Draghi sulla spesonetta sulla buona spesa quella sì quella è indispensabile però inutile far attendere ulteriormente il rettore Cupertino e diamogli la parola per i suoi commenti grazie innanzitutto buongiorno a tutti e tutti scusate per essere arrivato in ritardo il rettore Polli c'era con me stamattina a Grottaglie lui evidentemente più atletico è stato più bravo a fare il dribbling è arrivato mi ha battuto sul tragitto ci tenevo riesco a nascondere meglio il professore nella regione Puglia in collaborazione con tutti gli enti e le università del territorio io posso solo immaginare l'intervento del magnifico Pollice anche con qualche suggestione che ho recuperato dall'intervento che mi ha preceduto ma anche perché una cosa positiva attuale del sistema anche universitario pugliese è la capacità di fare dialogo e la convinzione reciproca del dover del dover fare rete di dover agire in modo in modo sinergico la l'ultima suggestione del arriveranno risorse nell'ambito PNRR dobbiamo investirle dobbiamo cercare di utilizzarle positivamente io davvero non credo che il problema del mondo della ricerca dei prossimi anni sarà la questione dell'ottenimento delle risorse sarà piuttosto quello di riuscire a immaginare delle attività che abbiano sostenibilità nel medio lungo periodo noi dobbiamo riuscire a strutturarci per avere sempre di più una autonomia in quello che continueremo a fare anche a prescindere dalle risorse del PNRR proverò a portarvi alcuni alcuni esempi negli ultimi anni per quanto riguarda le collaborazioni col mondo dell'industria che sono immagino saranno state ricorrenti negli interventi di oggi noi al Politecnico di Bari abbiamo immaginato un modello di relazione con l'industria basato su dei contenitori che chiamiamo laboratori pubblico privati che consistono nel mettere a disposizione di aziende private parte dei nostri laboratori in modo tale da avere a lavorare fianco a fianco ricercatori dell'accademia con ricercatori dell'industria con i nostri giovani talenti che quindi hanno possibilità di crescere di continuare a studiare in un ecosistema che ne favorisce una formazione mirata rispetto a quelle che poi saranno le esigenze del mondo del lavoro grazie a queste iniziative siamo riusciti a completare dello sviluppo di alcuni prodotti nati anche dentro progetti di ricerca in cui c'era c'era anche NEA che nascendo in laboratori dei centri di ricerca piuttosto che delle università sono diventati magari un oggetto che vola su un aereo mobile in fase finale di certificazione per arrivare al volo se riusciamo a favorire un ecosistema nel quale ci possano possano coesistere il mondo della ricerca della speculazione scientifica del fatto di poter fare formazione di conoscenza che è quello che penso per la maggior parte di noi è stato quello che ci ha avvicinato al mondo della ricerca e della della formazione universitaria con chi poi i risultati di quell'attività di ricerca deve riuscire a metterli in campo anche a sfruttarli da un punto di vista economico economico commerciale e questo lo dobbiamo riuscire a fare continuando ad attrarre aziende che magari arrivano in Puglia grazie a un ecosistema che favorisce un certo tipo di investimenti sul nostro territorio che sicuramente deve essere una cosa sulla quale dobbiamo continuare a investire dobbiamo secondo me anche provare a fare uno sforzo su come portare all'interno di questo ecosistema la miriade di piccole e medie imprese che caratterizzano fortemente il tessuto economico della nostra regione direi un po' di tutto il meridione e anche dell'Italia tutta perché oggi viviamo un momento di grandi cambiamenti sicuramente le grandi aziende per struttura per mentalità per organizzazione hanno una capacità di cogliere i cambiamenti o di fare investimenti di prospettiva di medio periodo si rischia che in un mondo in così rapida evoluzione un pezzo importante del tessuto nostro economico e commerciale possa rimanere tagliato fuori per incapacità di seguire l'evoluzione di quello che sarà il mercato la tecnologia il posizionamento nei rispettivi settori io ritengo che il mondo della ricerca e qui includo le università i centri di ricerca che sicuramente hanno fatto benissimo nella formazione nel formare talenti nello sviluppare tecnologie in qualche modo devono riuscire a dare una risposta anche al tessuto delle piccole e medie imprese italiane io immagino che il modello dei laboratori pubblico privati che ho descritto seppur brevemente prima possa essere declinato anche in un'ottica di interazione con le PMI del territorio io immagino dei contenitori che facciano adesso anch'io evito le parole inglesi però si parla di open innovation quindi di innovazione aperta quindi di stretti di innovazione aperta che siano focalizzati su delle verticalità su delle tematiche tra le quali sicuramente rivestono un ruolo i materiali innovativi potrebbe esserci l'economia dello spazio ha parlato a Cerno poco prima di me se riuscissimo a mettere insieme aziende piccole e medie che hanno delle focalizzazioni comuni e gli si proponesse di utilizzare questi contenitori che sono popolati poi dalle università dei centri di ricerca come strumenti per fare ricerca di frontiera non per risolvere il problema dello stamattina che cosa faccio nello stabilimento per risolvere un problema della mia macchina ma dove sarò tra 5-10 anni qual è la soluzione che può essere in qualche modo dirompente rispetto alle mie prospettive di mercato di collocazione nel mercato in questo modo noi aggregando un numero importante di aziende potremmo avere una massa critica che possa favorire lo sviluppo di iniziative di ricerca e potremmo in qualche modo anche riuscire a superare l'incapacità delle piccole di dialogare tra di loro per una questione di interessi di proprietà intellettuale rispetto a quello che si sta sviluppando è chiaro che se noi sviluppiamo una soluzione che deve essere sul mercato da un mese all'altro avremo una competizione tra chi partecipa allo sviluppo di quella soluzione se invece proviamo a guardare la frontiera quello che sarà da qui a 5-10 anni in quel caso anche le barriere rispetto alla possibile collaborazione e condivisione dei risultati possono riuscire ad abbassarsi quel tanto che basta che ci possa permettere poi di aggregare e di fare massa critica dobbiamo favorire in questo modo sia l'abitudine a fare ricerca l'abitudine a dialogare col mondo della ricerca l'abitudine a integrare le nostre aziende ricercatori e laureati il mondo il mondo delle grandi imprese è fatalmente estremamente attrattivo per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che vedono sempre un po' meno di buon occhio la possibilità di andare a essere integrati nel tessuto delle PMI locali che inevitabilmente diventa un ulteriore freno perché queste possano crescere e possano traguardare un po' il livello di media azienda che è quello che comincia a conferire una dimensione tale da poter dare anche una stabilità di medio periodo al loro collocamento io ritengo che volendo fare un augurio a chi compie vent'anni il Politecnico ne abbiamo compiuti trenta poco fa per cui siamo tutto sommati della stessa generazione sul territorio poi anche il Politecnico in realtà eredita una tradizione di ingegneria all'Università di Bari ben più antica però come sono iniziative che nascono che si insediano sul territorio in un periodo tutto sommato recente dobbiamo riuscire a guardare con fiducia nel futuro avendo in mente che cosa faremo di qui ai prossimi vent'anni perché il PNRR è uno strumento che la Comunità Europea intende destinato a iniziative che non debbano finire nel duemilaventisei quindi sarà richiesto di dimostrare la sostenibilità dell'utilizzo di quelle risorse la sostenibilità noi la riusciamo a garantire soltanto se riusciamo a fare massa critica cioè se riusciamo a mettere insieme su una tematica quale potrebbe essere quella dei materiali dei materiali innovativi una quantità di ricercatori di persone di interazione col mondo industriale tale da poter garantire a qualunque forma di investimento una prospettiva di medio lungo periodo siamo chiamati a un atto di responsabilità lo dobbiamo fare confrontandoci col sistema non accettandolo passivamente perché capisco che c'è un sistema di regole di tempi di burocrazia che alle volte non c'è bisogno di dirlo ai rettori è una delle cose che più ci sconforta alle volte però dobbiamo confrontarci col sistema che abbiamo e all'interno di queste regole dobbiamo cercare di dare un nostro contributo il Politecnico c'è io sono convinto che il sistema universitario pugliese ci sia aperto a una interazione sempre virtuosa con interlocutori importanti come Enea e quindi un po' questo augurio di un buon futuro ad Enea diventa un augurio di un buon futuro a tutto il sistema della ricerca pugliese grazie almeno come organizzazione almeno come organizzazione ma lei 30 anni ce li ha per davvero non solo il Politecnico li porto bene anche se mi batte sempre pollice nei dribbling però va bene comunque interessante molto gli spunti che ci ha sottoposto vorrei cogliere un paio di aspetti diciamo così sulle questioni regolamentari o strutturali che talvolta limitano i percorsi che lei ha sottolineato ad esempio nell'interazione industria pubblica interazione pubblico privato sarebbe bello avere anche una possibilità di transito da un settore all'altro più ad esempio esiste in altri paesi scusate scusate riguardo invece alle PMI sono un motore diciamo all'economia italiana rispondere però alle loro richieste l'abbiamo sperimentato molte volte è una sfida in termini di tempi non tanto di economicità quindi almeno per renti pubblici perlomeno quella che è l'esperienza dell'enema penso sia un po' generalizzato per i pubblici avere qualche alleggerimento regolamentare dal punto di vista amministrativo gestionale che gli consenta di rispondere nei tempi brevi che le PMI chiedono le PMI chiede degli interventi economici perché non hanno grandi disponibilità a meno che non si consorsino ma sempre brevi e spesso legati a delle esigenze specifiche della produzione o il loro sviluppo di un nuovo prodotto addirittura in qualche in qualche normativa quindi diciamo io auspico personalmente e diciamo in questa grande ondata di di novità e di nuove prospettive che ci porge l'uscita dalla pandemia e il PNRR che ci siano anche quegli interventi sui regolamenti che sono importanti quanto la disponibilità finanziaria per l'accesso al PNRR e poi tutti ospichiamo di giocare il nostro ruolo molti anche per aumentare le retribuzioni noi avevamo parlato era stato evidenziato da più parti questo ma a parte la questione lì mi pongo il diciamo così un dilemma che è quello che l'Italia è talmente indietro come infrastrutturazione e quindi sono da colmare talmente tanto delle lacune o delle debolezze che si sono create in tutti i settori le ferrovie eccetera che spero che si riesca a mantenere diciamo l'enfasi sull'innovazione che invece spesso è un elemento debole nel cuore diciamo di queste politiche far rimanere l'accento sull'innovazione sulla ricerca anche molto attiva nell'individuazione di nuovi prodotti nuove metodologie credo che sarà una sfida speriamo spingerla se non ci sono ulteriori interventi io ringrazierei veramente di cuore il panel presente direttore dei loro delegati e passerei magari a degli interventi successivi ringraziando veramente di cuore anche per l'idea che avete proposto a tutti quanti e per la passione con cui ce le avete diciamo sottoposto bocca al lupo grazie avanti avanti siamo arrivati arrivato dopo quindi direi un po' in ritardo io sono che Marco è a casa è arrivato per secondo diamo la parola per primo a Marco forse c'è qualcuno di questi chi sono si sente sì buongiorno c'è sicuramente l'altro panel volevo avvertire Anna Maria Monterisi che la vedo in sala Maria D'Aprile che la vedo in sala e il dottor crescenzo marino che dovrebbe essere collegato in online buongiorno a tutti sono Marco Manchisi questo giro rappresento il DITNE il nostro presidente Arturo De Risi è impegnato in una missione internazionale quindi volentieri diciamo mi ha mi ha mi ha chiesto di partecipare io volentieri porto i saluti porto i saluti anche del nostro consiglio di amministrazione del comitato di indirizzo e dei molti soci del DITNE che hanno collaborato in questi anni sin dalla data della costituzione del DITNE che ormai risale al primo agosto 2008 con una serie di partner locali l'Enea in particolare è uno dei nostri soci fondatori e ha partecipato a numerosi progetti io per essere più sintetico mi sono appuntato alcuni di questi progetti perché sono davvero pregevoli abbiamo avuto modo di lavorare con fattiva collaborazione per chi non conosce il DITNE l'acronimo sta per Distretto Tecnologico Nazionale dell'Energia è nato come dicevo nel 2008 per favorire i rapporti e le collaborazioni scientifiche tra i sistemi della ricerca dell'industria nei settori dell'energia e dell'ambiente e per promuovere la crescita quali quantitativa delle competenze nel sistema imprenditoriale quindi l'Enea era ovviamente un socio importante ed ha subito risposto alla chiamata la visione che è il DITNE e Enea condivide particolarmente questo con noi è quello di sostenere lo sviluppo della ricerca nei settori produttivi dell'energia e dell'ambiente nelle sue varie forme compresa soprattutto l'efficienza energetica di cui in Italia in realtà abbiamo un lungo ed antico patrimonio industriale incoraggiare il trasferimento tecnologico favorire legami tra ricerca produzione di beni e servizi mondo finanziario stakeholder portatori di interessi in senso lato e la visione e la missione poi si concretizzano nell'attivare una rete strutturata di relazioni e di collaborazioni tecnico-scientifiche sia nella ricerca e sia sempre più con il mondo delle imprese nonostante sia un distretto tecnologico all'interno del DIT vi sono numerose imprese vi sono numerose imprese che operano sul territorio regionale e native regionali ma vi sono anche dei campioni nazionali dei campioni internazionali sicuramente anche dei campioni internazionali per quello che riguarda imprese più grandi che hanno che hanno aderito al al distretto altra missione è quella di migliorare gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e tecnico-scientifiche dedicate promuovere e sostenere la creazione di un'azienda i-tech rafforzare e migliorare la visibilità delle eccellenze locali nei settori energetici e ambientali a livello nazionale e a livello internazionale con ricadute regionali promuovere la crescita professionale delle competenze il distretto non ha proprie strutture di ricerca e di sviluppo ma si avvale dei laboratori e delle competenze dei propri soci e quindi è in grado di utilizzare di fatto al meglio le loro capacità e le specificità valorizzandole integrandole con una propria capacità di project management e di gestione amministrativa gestionale diciamo in senso organizzativo anche per quello che riguarda la partecipazione a bandi tipicamente emanati dal MUTM, dal MIUR e dal MISE il supporto che insieme ai soci e quindi qui mi concentro più su quelle che sono state quelle attività che hanno visto e ne ha presente il supporto che il DIT ne fornisce è nel favorire il trasferimento tecnologico su impianti su tecnologie per impianti a fonte rinnovabili con priorità su mini e microeolico fotovoltaico solare a concentrazione biomasse cogenerazione diffusa e da ultimo l'idrogeno questo vettore su cui noi riponiamo grande fiducia per una vera e propria transizione ecologica ed energetica soprattutto nei settori art to abate e nei settori in cui la necessità di avere un combustibile evidentemente alternativo a quello fossile ma che non si riesce a rendere succedano invece con Green Fuel ci vede particolarmente impegnati Enea è anche il soggetto che è stato scelto a cui è stata affidata la missione da parte del MISE di coordinamento delle iniziative dell'IPC idrogeno e quindi piacevolmente collaboriamo anche diciamo su alcune di queste attività e siamo anche all'interno del CTN Cluster Tecnologico Nazionale dell'Energia presieduto e coordinato dall'ottimo Giampiero Celata io volevo soltanto accennare mi scuso in anticipo se gli acronimi sono in inglese perché come diceva il magnifico dell'Università del Salento l'italiano è molto bello ci appassiona anche molto è una virtù romantico alcune volte anche per i ricercatori però tant'è gli acronimi sono sono in inglese quindi mi diciamo mi mi scuso non li tradurrò diciamo evidentemente perché diciamo abbastanza diciamo abbastanza agevole nel nel 2018 anzi diciamo all'inizio nel nel 2010 quindi poco dopo essersi formato abbiamo partecipato ad un progetto che insieme ad Enea che si chiama ORECCA Offshore Renewable Energy Conversion Platform Coordination Action e sin da allora ormai già due lustri fa avevamo ipotizzato ed evidenziato le possibilità dello sfruttamento offshore di impianti eolici un altro progetto molto importante nell'ambito dell'Interreg Italia Albania Montenegro è stato il REHAB Regional Energy Efficiency Hub e in questo in particolare con molto piacere con i colleghi trasfrontalieri abbiamo dato vita ad un vero e proprio luogo di incontro in cui i responsabili delle politiche locali dei paesi coinvolti hanno avuto un dialogo aperto con la cittadinanza sono state coinvolti alcuni comuni piccoli che difficilmente entrano nelle reti di grandi progetti e è stata molta attenzione anche da parte dell'industria dei materiali da costruzione di molti progettisti e di PMI verdi altro progetto da segnalare è il BRICS Building Refurbishment with Increased Competence Knowledge and Skills e ha visto soprattutto lo sviluppo di un sistema di formazione per migliorare le conoscenze le abilità e le competenze dei lavoratori impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici e nel contestuale uso di fonti rinnovabili di energia un modello di certificazione innovativi modelli di formazione in cantiere e la gestione di un marchio BRICS poi vi sono tre progetti in cui diciamo con Enea siamo stati particolarmente impegnati nei cosiddetti PONREC e sono Innovasol che è un progetto che come tradisce evidentemente il nome dell'acronimo riguarda sviluppo di tecnologie innovative nel campo del solare a concentrazione EFDIL riguarda soluzioni innovative per le efficienze energetiche in edilizia in particolare siamo riusciti a sviluppare dei laterizi innovativi innovando materiali quali PCM Face Changing Materials ancora un progetto molto interessante che è lo Smart Energy Boxes riguardava la ricerca e sviluppo di sistemi per la produzione efficiente la gestione e l'accumulo di energia elettrica e termica il tutto integrato ed interconnesso con un virtual power plant io mi fermerei qui perché ce ne sono poi altri ma evidentemente avete compreso quelli che sono i filoni di ricerca su cui abbiamo condiviso queste esperienze molto positive con l'Enea voglio solo riportarvi l'auspicio del consiglio di amministrazione del DITRE che è quello di una particolare attenzione alla formazione ci teniamo molto essendo sostanzialmente un distretto che ha nel suo DNA proprio la volontà di fare matchmaking tra tutti gli operatori che sono presenti diciamo sul territorio noi vogliamo contribuire alla formazione di nuovi ricercatori il messaggio che vogliamo portare insieme a Enea insieme a CNR insieme ai centri di ricerca regionali insieme all'università del Politecnico stimolare i nostri ragazzi ad avere diciamo quella fame quella curiosità sulle nuove tecnologie in tema di energia ed efficienza energetica e di nuovi materiali buona prosecuzione in questa giornata celebrativa del ventennale siamo davvero molto molto vicini dagli amici di Enea tutti quanto seminato con il DIT è stato positivo perché abbiamo anche il Rehab Plus recentemente avviato quindi la troviamo troppo gratis quindi quindi diciamo ci auguriamo appunto per la collaborazione con DIT se ne prosegue ampia e proficua come è sempre stata anche in occasione di questa innovazione nel settore energetico oltre che ecologico va bene io passerei oltre visto diciamo un po' di terra che abbiamo accumulato ma probabilmente i colleghi dell'ONU assolutamente sì tanto io sono di casa offro volentieri sì ecco qui 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 prego prego grazie mille il mio intervento sarà molto breve e vi porto innanzitutto il saluto della direttrice del centro servizi globale Giovanna Ceglie e a nome suo e di tutti i dipendenti del nostro centro io ringrazio gli organizzatori dell'evento per averci invitato ringrazio l'Enea con cui abbiamo sviluppato degli episodi di collaborazione e quindi speriamo effettivamente che questo sia l'apertura di una pagina di collaborazione più strutturata riprendendo proprio il discorso che aveva fatto il magnifico rettore pollice però la direttrice ci teneva che fossimo presenti e ci tiene perché soprattutto per un importante messaggio cioè il fatto che per noi è importante l'alleanza con questo territorio è importante perché senza non possiamo crescere è importante perché 27 anni di storia anche noi siamo diciamo relativamente giovani come il Politecnico di Bari come l'Enea ecco in questi 27 anni la nostra storia è intrecciata con quella di questa città e quindi il fatto di essere l'unico centro delle Nazioni Unite a servizio delle operazioni di pace nel mondo e questo è possibile solo grazie ad una relazione fortissima con Brindisi e con questa regione io vi posso garantire che già 27 anni fa quando è nata la base delle Nazioni Unite qui a Brindisi Brindisi era nota come safe heaven porto sicuro al di là del Mediterraneo e soprattutto nei paesi dell'ex Jugoslavia perché proprio dalla UNLB di Brindisi allora eravamo United Nations Logistics Base oggi siamo Global Service Center ma insomma siamo la stessa cosa semmai abbiamo affinato in termini appunto grazie anche alle tecnologie avanzate che abbiamo potuto sviluppare nel corso di questi anni e soprattutto in queste città è arrivata l'acqua e l'energia grazie a Brindisi ed è per questo che in questi posti in Africa e Medio Oriente nei Balcani dove noi operiamo anche nel Sud America Brindisi vi posso garantire che è ben nota con me oggi ci sono i miei colleghi sono due ingegneri ma solo l'ingegnere Treveri e l'ingegnere Morelli sono solo due ma testimoniano più centinaia di specialisti che operano all'interno del centro servizi globale delle Nazioni Unite e che si occupano nello specifico di progetti di innovazione tecnologica ingegneristica e energetica ed è grazie proprio all'expertise di queste persone che noi possiamo intraprendere percorsi di ricerca progetti innovativi e possiamo anche esportarli questi progetti perché ovviamente i posti in cui noi operiamo non non sono i luoghi privilegiati in cui viviamo sono ambienti molto più complessi e molto più pericolosi parlo del Sahara occidentale parlo del Mali parlo del Sud Sudan Somalia Darfur tutti paesi in cui si opera in condizioni di stress idrico di strade inesistenti di distanze lunghissime da 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 colmare e dove la possibilità di trasferire tecnologie appropriate e sviluppare capacità critiche può fare la differenza fra la vita e la morte per migliaia di persone ecco dove è importante allora che questo territorio faccia rete ed ecco perché è importantissima per noi anche la collaborazione con l'Enea oggi noi siamo centro di eccellenza ed avanguardia per tutti i servizi e le soluzioni di innovazione tecnologica in ambito ONU effettuiamo mappature in remoto delle missioni analisi spaziali del suolo e del sottosuolo implementiamo sistemi di energia rinnovabile trattamento delle acque riciclo dei rifiuti ma insomma sono tutte aree che accomunano tutti i ricercatori del territorio quindi è importantissima questa forma di collaborazione con il territorio ecco perché noi questo non lo possiamo fare non lo possiamo fare da soli allora la consapevolezza che siamo effettivamente più forti se siamo insieme è quello che ha fatto spingere l'acceleratore sull'idea della partnership che guarda caso è l'obiettivo 17 dell'agenda 2030 quello che chiude il cerchio dei 17 obiettivi per esempio leggevo a proposito del programma dell'Italian Tech Week di questa settimana che l'ingrediente fondamentale per l'innovazione tecnologica non è una tecnologia particolare ma è il coraggio nel porsi sempre nuove sfide e realizzarle ecco riflettendo sui progetti che già ha avviato questo territorio penso che il coraggio sia lì faccio per esempio un riferimento ai nuovi corsi di laurea che si stanno avviando a Brindisi grazie all'Unisalento ma penso anche ai progetti che già abbiamo in fieri noi come base ONU con il Politecnico di Bari allora la partnership sottende uno scambio generoso tra le parti cioè implica l'allineamento nei sistemi di valori perché significa collegare scelte giornaliere con quello che è lo scopo di vita con quello che è il goal nobile che ci prefiggiamo allora quando un obiettivo diventa nobile quando è che un obiettivo è nobile lo è quando è permanente quando è pervasivo e quando ha il potere di operare un cambiamento di promuoverlo questo cambiamento allora bisogna promuoverlo perché in questo territorio e dovunque c'è bisogno di una cultura di pace c'è bisogno di formare nuove generazioni ossia persone che si che prendano che sentano su di loro la responsabilità della trasformazione della società è vero che ognuno di noi ha la responsabilità della propria vita individuale però è vero anche che abbiamo la responsabilità della società che è un impegno enorme però l'alternativa è peggiore quindi questa organizzazione delle Nazioni Unite che io ho oggi l'onore di rappresentare insieme ai miei colleghi con i suoi obiettivi nonostante tutti i suoi limiti e anche tutti gli errori rimane effettivamente il traguardo possibile allora a questo traguardo per raggiungerlo noi abbiamo bisogno di voi e abbiamo bisogno di lavorare insieme grazie mille e tanti auguri a tutti sentire di questi scopi sociali così elevati talmente elevati che magari per organizzazioni di ricerca è difficile concepire come supportare in questi percorsi però quello che l'auspicio che abbiamo è di intuire ancora meglio come collaborare in termini pratici a perseguire questi obiettivi così nobili che avete a nome di tutta di tutta l'umanità grazie va bene passiamo la parola a Marco o no o no abbiamo fatto salire abbiamo fatto salire Anna Maria Monterisi perché sennò rimaneva come una particella di sodio diciamo tra i relatori nella platea allora grazie intanto grazie per l'invito porto i saluti sono Marco Alvisi neo direttore generale di CETMA e porto i saluti del presidente Francesco Saponaro che è fuori in Portogallo oggi per cui non poteva materialmente essere presente quindi mi ha chiesto di delegarlo ma porto anche i saluti del ex direttore fino a ieri fino a un mese fa Luigi Barone che ovviamente essendo anche un collega di Enea ha vissuto direttamente dalla parte CETMA questi vent'anni di Enea io ovviamente come sapete tutti li ho vissuti dalla parte di Enea sono particolarmente emozionato oggi perché tutta una serie di sollecitazioni ultima questa dell'ONU nella quale tra l'altro lavorava mia zia a New York che ho visitato quando avevo vent'anni e mi mi sollecitano perché vivo la parte di Enea la parte di CETMA il discorso interessantissimo che che ha fatto il rettore Pollice che veramente è una risorsa enorme io penso per questo territorio accompagnato dalle sollecitazioni e dai contributi del delegato di Università di Bari e del rettore copertino mi sembrano che come dire la carne al fuoco sia molta allora rapporti CETMA e Enea hanno più o meno quasi tutti in questa sala li conoscono hanno subito varie fasi le proprio faccio un flashback di due minuti per come dire provare a fare una narrazione condivisa anche perché sintetica poi ognuno ovviamente avrà la sua e il CETMA nasce l'anno scorso ha fatto il 25 annale per cui rispetto a Enea diciamo nasce 5 Enea di Brindisi ovviamente nasce 5 o 6 anni prima nel 95 e poi realmente nel 96 quindi quando il centro di Enea di Brindisi è nato nel 2001 e più o meno anche negli anni successivi il CETMA era già diventato una realtà significativa circa 30 persone adesso ci sono Alessandra in particolare Passaro della divisione Ampa che mi correggerà se sbaglio forse qualche dettaglio lo sbaglio e quindi era già una realtà insomma presente sul territorio nata proprio con la funzione che ricordava prima anche il rettore Cupertino lui e chi di Sciascio prima di lui hanno costruito questi laboratori di pubblici privati uno dei motivi dell'esistenza del CETMA era fare da centro di trasferimento tecnologico dell'Enea e degli altri soci e di fare da consorzio inizialmente di secondo livello per sviluppare un'integrazione di progettualità come è stato poi con la stagione di PON quindi quando l'Enea è nata io ovviamente sono stato assunto nel 2001 il CETMA viveva un supporto di Enea nella sua fase di start up e mentre Enea ricominciava dalla fase precedente di PASTIS successivamente c'è stata una stagione in cui il CETMA è stato utilizzato dai propri soci in un'ottica proprio di consorzio di secondo livello come sistema integrato come il DTA rappresentato prima da Giuseppe e quindi è cominciata la grande stagione dei PON che si è conclusa più o meno nel 2015 in cui il sistema e l'impianto dei contributi ministeriali alla ricerca e all'innovazione consentiva anche a strutture di tipo privatistico quindi non sostenute da contributi ordinari dello Stato nonostante la parte di cofinanzionamento che per il CETMA poi ha rappresentato come dire e rappresenta ancora un vulnus economico e consentiva di sviluppare grande progettualità sempre di ricerca applicata quando non industriale quindi ha consentito al CETMA di accumulare grande know-how e anche attrezzature ma di riversare sui soci in primis Enea importanti commesse importanti attività ma ovviamente noi ricordo siamo 50% soci Enea 10% Unisalento e abbiamo dentro era prima qua presente insieme al Rettore il Professor Naso dentro il CDA quindi il Politecnico di Bari per noi è uno stakeholder fondamentale ma non è tra i nostri soci e poi abbiamo dentro Rina e altre università e altre scusate PMI e aziende quindi è cominciata la stagione dei PON e questo ha fatto sì che il CETMA crescesse in maniera importante immaginate siamo arrivati fino a 110 mi sembra dipendenti 112 dipendenti con un fatturato di 12 milioni quando in quell'epoca il centro di ricerca Enea era sui 50 dicevate oggi la bella ricostruzione che hanno fatto sia Piero che Michele e dopo di che è cominciata insomma c'è stato il 2008 è cominciata la spending review e che è cambiato l'impianto diciamo dei contributi della percentuale di contributi sui progetti di ricerca quindi è cambiata la regolamentazione quindi si è molto abbassata è arrivata al 50% a quel punto il CETMA non ha avuto più le possibilità avendo accumulato anche come dire un ingente come dire capitale di debito dovuto al cofinanziamento come fu nel passato del Pastis e poi successivamente a causa del blocco dei pagamenti del MIUR una delicata situazione finanziaria che nel 2017 ha creato un rischio enorme il CETMA ha operato io da quel momento lì sono stato nominato dall'Enea come consigliere di amministrazione ha operato una virata del modello di business adesso anche Dario è con me nel consiglio di amministrazione quindi l'ha osservata diciamo in questi ultimi anni in cui mentre prima la percentuale di servizi commerciali e di nel confronto delle piccole e medie imprese di centro di ricerca e trasformamento tecnologico di sviluppo prodotto nei confronti delle piccole e medie imprese ma anche delle grandi era abbastanza limitata a qualche insomma 10-15 forse massimo 20% del fatturato rispetto ai grandi progetti PON ha assunto una un'importanza e fino a quasi il 50% di oggi noi oggi su un fatturato di circa 5 milioni 5 milioni e mezzo probabilmente copriremo diciamo nel 2021 quasi il 50% con servizi commerciali e di trasferimento tecnologico quindi con risorse che vengono direttamente dalle imprese dalle piccole e medie imprese ieri parlavo con l'assessore dell'Inoci a cui appunto cercavamo come dire c'è stato un primo incontro per sintonizzare diciamo quelle che possono essere le opportunità per CEPMA e quelle che possono essere sia i bisogni che le opportunità che genera la regione Puglia e lui mi chiedeva proprio questo diceva ma perché non fate questo lavoro per le piccole e medie imprese io gli ho rappresentato che noi questo appunto rispetto alla stagione dei PON che lui conosceva probabilmente meglio lo stiamo già facendo negli ultimi 4-5 anni in questa fase ovviamente il rapporto come Enea salvo alcuni progetti ricordo il PON Byte FDIL e altri PON è stato più limitato salvo ritrovare proprio perché le condizioni a contene erano cambiate un altro asset importante che abbiamo sviluppato cominciando da zero e arrivando a 20 proposte l'anno vincendone circa 4 sono state la progettazione europea in cui come sappiamo le regole fanno sì che non sempre il partenariato cioè quello desiderato ma bisogna scegliere di solito noi italiani non avendo altri fondi siamo proiettati sulla progettazione europea per cui come dire ci sono sempre troppi partner in italiano quindi non sempre la partnership con Enea è possibile però quando c'è stata ed è ripartita una stagione questo devo dire veramente grazie a Dario all'Enea che ha coinvolto Cettama e a Dario della Sala che ha portato in Italia la chicromateria con la chicromateria in cui come dire le competenze consolidate di eccellenza a livello europeo sui materiali compositi ma in generale sui materiali polimerici di Cettama hanno trovato uno spazio insieme a Denea per sviluppare quello che la chicromateria cerca di sviluppare cioè come dire il circolo virtuoso all'interno dell'ottica della tripoerica tra conoscenza formazione e industria e quindi come dire è ripartita una stagione di collaborazione stretta come dire per Cettama se volete è probabilmente anche per Enea limitata perché capite bene che su per portare a casa diciamo un fattorato di 5-6 milioni all'anno come dire le attività che dobbiamo animare in 60 persone come siamo adesso sono molto molto maggiori di quelle che possono arrivare da singoli progetti di ricerca però è ripartita negli ultimi mesi negli ultimi sei mesi e anche negli ultimi anni insomma da quando sono consigliere di amministrazione abbiamo proprio ristabilito come dire una stagione sia un po' cogliendo l'occasione del cambiamento di alcuni appunto di una nuova stagione come dire di governance in generale di questo sistema e di una rinnovata alleanza con Enea quindi io adesso passando dopo questo l'ho fatto un po' troppo lungo flashback diciamo storico al presente al futuro e ho chiesto diciamo da quando ho questo ruolo ai colleghi di Shetma che già in parte lo facevano di incrementare ancora di più la come dire la permeazione con le attività di Enea in particolare dell'Enea di Blindisi ma non solo adesso io sono in contatto con tutti i dipartimenti abbiamo ho ricevuto un mandato in qualche modo dal precedente presidente come ruolo come sa anche Dario che sta nel consiglio di amministrazione proprio di costituire una cerniera che possa crescere questa relazione quindi di trasformare il CETMA da un problema finanziario non causato da noi ma come dal nostro benannato ministero della ricerca in un'opportunità e quindi questa cosa mi sembra stia procedendo dalle piccole come dire alle grandi cose che speriamo siano quelle che ha prima rappresentato il rettore Pollici e quindi il futuro in questo momento lo vedo ah no dicevo sono in contatto adesso dovremo incontrare il presidente di Aluce Saponaro ha già inviato diciamo una richiesta una disponibilità per rappresentargli la realtà CETMA e nei prossimi settimane penso che questo verrà fatto però sono in contatto direttamente con tutti i dipartimenti dell'Enea perché stiamo cercando di portare qua attività proprie della fusione di lavorare sulla filiera dell'idrogeno ovviamente di lavorare in primis sono state le prime cose che abbiamo fatto insieme con i materiali con la divisione di Dario ma anche col dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali di Morabito per cui il futuro come diceva l'altro giorno anche l'assessore il problema forse non sarà quello di risorse ma sarà quello di riuscire ad avere dei progetti credibili e soprattutto che generino impatto perché su questa secondo me è la parola parte richiesta dalla Commissione Europea ma noi verifica impatto è una parola che almeno io personalmente ho sempre cercato nei dibattiti pubblici di portare all'attenzione dei decisori di quelli che contano come diceva il rettore Pollice io penso che dobbiamo costruire delle progettualità che intercettino queste risorse ma più che intercettarle che rispondano a queste norme noi siamo davanti all'inizio del PIO ieri l'assessore mi diceva che probabilmente a febbraio dovrebbe essere del POR diciamo del settenno del POR è partito il primo anno del settenno della Commissione Europea di Horizon Europe c'è il PNRR c'è il PNR che NEA tra l'altro ha partecipato in alcuni pezzi a scrivere e quindi siamo davanti a una quantità di risorse incredibile ripartirà tutta ovviamente anche la parte interreg diciamo progetti trasfrontalieri quindi siamo davanti veramente a una quantità di risorse ma è una necessità di generare impatto e infrastrutturazione della ricerca dell'innovazione e che ha in primis le criticità perché poi Pollici ha messo il dito in varie piaghe diciamo sia nazionali che locali nella cittadella della ricerca e anche lì tutti i presenti sanno quanto io mi sia speso in questi cinque anni e continuo a telefonare a Vito Albino circa ogni venti giorni per sapere l'andamento di questo passaggio nonostante non abbia più ruolo diciamo dal punto di vista di NEA ma almeno lo faccio ugualmente e penso che questa sia e l'ha ben delineato meglio di me anche perché insomma ha una capacità oratoria migliore della mia il rettore Pollice credo che sia veramente il momento di lavorare su progettualità strategiche oltre a vivere come dire giorno per giorno rispondendo ai bandi portando avanti le attività di ricerca e di sviluppo con le imprese e in particolare io spero che tutti i soci lo stiamo facendo anche con Rina e con Unisalento ma in particolare NEA ritrovino e con questo concludo il ruolo di CETMA come centro che possa trasferire le competenze sviluppate in Enea che spesso perché come diceva Dario è un ente pubblico e le tempistiche non sono quelle delle imprese o perché semplicemente i ricercatori vogliono fare altro che non lavorare direttamente con le imprese e NEA non riesce a trasferire al mondo produttivo CETMA fa circa 110 contratti l'anno quindi ne fa un paio alla settimana di nuovi e quindi diciamo noi dal punto di vista di velocità siamo assolutamente sintonizzati con quello delle imprese grazie e auguri ovviamente a noi stessi grazie Marco quando parlavi mi veniva queste immagini in mente che mentre con tanti partner che si sono avvicendati oggi abbiamo fatto dei percorsi insieme su altri per altre cose provati insieme su altri tragitti con CETMA è come se avessimo viaggiato in sidecar ogni tanto guidava CETMA e l'Enea stava sul predellino poi ci siamo scambiati il ruolo e Marco ha cambiato posto su questo sidecar che viaggia da tanti anni comunque sì grazie per l'ascursus che hai fatto e anche per aver citato quell'idea quel momento dei pon che fu un momento importante che però poi ha lasciato dei frutti avvelenati periodo molto importante in cui un ministero nel caso specifico del MIUR aveva una visione un po' molto più ambiziosa con iniziative nei laboratori pubblico private nella creazione o sostegno di distretti però poi ah non c'è stata la finalizzazione di queste cose le misure di accompagnamento per stabilizzare le realtà che erano state create soprattutto i laboratori pubblico privati poi vabbè è entrato in stato un po' confusionale direi il MIUR con la sua programmazione dei finanziamenti questo ha generato dei problemi lancinanti per tanti stakeholder soprattutto per il CET ma al quale però bisogna fare i complimenti per aver saputo cambiare percorso in un periodo difficile ed esserci pienamente riuscito quindi complimenti e speriamo che questo sidecar faccia altri lunghi percorsi insieme va bene e mi sembra che c'è un intervento è un intervento sì implementare del del dottor Marino che si è collegato quindi tutti d'accordo per dargli sì buongiorno 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 a tutti e grazie per aver accolto questo mio invito ad anticipare il mio intervento purtroppo ho un impegno di famiglia tra qualche minuto allora io sarò molto rapido nel corso degli interventi dei relatori che mi hanno preceduto sono emerse diverse suggestioni sicuramente l'aspetto fondamentale è il ruolo che ha avuto Enea e la relazione che ha avuto con la nostra regione e in particolar modo nella sua veste di soggetto che ha partecipato molto attivamente ai nostri avvisi ma mi riferisco a quelli relativi alla ricerca collaborativa allo sviluppo sperimentale per esempio come è emerso nell'intervento del dottor pensa con ben quattro progetti sull'avviso e non network e Nea da tutto il suo contributo in particolar modo sono avvisi che seguono la sezione ricerca della quale mi occupo nei quali evidentemente lente di ricerca il portatore di conoscenza quindi nel caso di specie di Nea ma anche gli atenei pugliesi affiancano le imprese per sviluppare delle soluzioni innovative alcune delle quali devo dire arrivano anche ad essere caratterizzate da un TRL molto elevato per cui poi emerge un altro aspetto importante quello dell'ingegnerizzazione delle soluzioni quindi quello poi di portarle sul mercato e in questo anche la nostra regione molto attenta con gli avvisi dei quali si è parlato prima e poi anche in questo momento sono autorità di gestione dell'Italia Albania Montenegro e Nea è presente anche nella programazione 14-20 noi stiamo lavorando manterremo senz'altro il ruolo dell'autorità di gestione del programma IPA Cross Board of Operations qui in Puglia stiamo lavorando già attivamente con la task force e all'inizio del 2022 senz'altro partirà il programma il nuovo programma del settembre del 1927 due contributi molto specifici volevo dare sul tema del futuro del futuro della cittadella e quindi di questa collaborazione importante con Nea come è noto la regione Puglia ha dato un indirizzo in sede di giunta regionale per provare a mettere sul tavolo il futuro della cittadella ma lo so interessa ovviamente questo interessa da vicino anche l'Enea nel senso che la regione Puglia ha affidato all'ARPI probabilmente la collega si soffermerà un pochino più nel dettaglio uno studio teso a prefigurare che scenario si può realizzare si può verificare concretamente in Enea per dare dignità agli ambienti ho segnato l'intervento del dottor Talmesio che parlava di un plesso che ormai non è più dignitoso quindi verificare le possibilità che ha la regione Puglia di acquisire a titolo magari più incomodato più incomodato dall'ente proprietario o da cittadetta porre in essere degli interventi infrastrutturali importanti che consentano poi la riallocazione in un contesto più dignitoso e soprattutto ben gestito perché poi bisognerà mettere in piedi anche un modello gestionale e di autosostenibilità finanziaria in qualche modo anche del futuro della cittadella e all'interno di questo per cui è verosimile che alla fine dell'anno questo studio verrà preso in carico dalla regione saranno fatte una serie di valutazioni che ovviamente riguarderanno più dipartimenti dal dipartimento delle risorse finanziarie quindi segue il patrimonio al dipartimento di sviluppo economico con il quale lavoro per cercare poi di comprendere se esistono anche degli strumenti nella nuova programmazione oppure comunque nei vari piani perché forse il problema delle risorse finanziarie è quello meno importante in questo periodo storico in cui addirittura si rischia la sovrapposizione come la conferenza Stato-Regioni ha osservato al Ministero si rischia la sovrapposizione sui alcuni temi ma anche dal punto di vista della gestione dei tempi fra il PNRF fra i Ponde nazionali e il POR regionale per cui potrà essere ridisegnato uno scenario della cittadina nella sua interezza diventa di fondamentale importanza perché rappresenta una priorità e questo invece riguarda solo Enea e la Regione di Tuglia una rifunzionalizzazione del comprensorio diventa fondamentale per l'avvio del centro per l'economia circolare noi con Enea abbiamo questa seguita personalmente abbiamo sancito un accordo tra pubbliche amministrazioni che ovviamente ha un livello molto alto ma è finalizzato di fatto mettere in piedi il centro per l'economia circolare con una serie di iniziative di formazione ma anche di alta specializzazione per esempio con l'avvio di dottorati di ricerca tematici o l'avvio anche di assegni di ricerca è chiaro che sono state gettate le basi però avremo poi bisogno di accordi attuativi nei quali saranno recuperate anche le risorse finanziarie che finanzieranno queste iniziative diventa però dirimente comprendere se effettivamente il centro per l'economia circolare avrà a disposizione spazi una infrastrutturazione decisamente rinnovata perché possa poi avviarsi così come il centro per la decarbonizzazione il rettore pollice è chiaro che sono tutte iniziative che troveranno una provocazione dignitosa e anche per esempio un canale di finanziamento che potrebbe essere la lancio di secondo me il più adatto e il polo per l'innovazione che è previsto dal regolamento GPR che consente anche di avviare poi un'iniziativa e consente anche in questa fase di start up di finanziare anche delle spese di funzionamento quindi queste due iniziative ovviamente seguiremo nei prossimi mesi come evolveranno però è chiaro che diventa fondamentale restituire una vivibilità agli spazi e soprattutto dotare la cittadella poi di un sistema di gestione che consenta non solo agli attuali ospiti della cittadella di avere condizioni di lavoro e di sviluppo nell'immediato più dignitose torno a usare questo termine ma anche pensare ad un allargamento e quindi pensare alle nuove iniziative che pure sono già in cantiere che potrebbero utilmente collocarsi nell'ambito della cittadella della ricerca vi ringrazio buona giornata e auguri per i 20 anni all'Enea di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. e quindi e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e... 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 a tutti. e... 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 ... e... 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 ... ... e... ... 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 ...... ...... ...... ... ...... ... ... ...... ...... ... ...... ...... ... ...... ...... ... ...... 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 ......... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ...... ...... ...... ......... ...... 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 quantistiche e ci piace anche approfondire il ruolo degli ENFN all'interno di questo progetto. Allora io farei partire direttore nostro ospite Andrea Giacchero che è collegato da un po' di fare magari un overview già a partire dal nome, perché Dark Wars e di cosa tratta questo progetto? Grazie. 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 Bene, ringrazio Andrea Giacchero. Ecco direttore, questo progetto ha avuto sicuramente un ruolo fondamentale degli ENFN. Ci puoi raccontare in che modo è stato coinvolto? Gli ENFN sostanzialmente sono un'azione di fisica nucleare, si attraverso sostanzialmente in ricerca nel campo della fisica nucleare. Allora stavo dicendo che gli ENFN, come dice lo stesso, significa l'istituto nazionale di fisica nucleare e supranucleare, si interessa sostanzialmente di ricerca in questo campo. Però questo poi porta a dover, come ha detto giustamente anche a un certo punto, anche Anna Grassellino nel suo intervento, Andrea poco fa, per poter portare avanti questa ricerca occorre poi sviluppare tutte le tecnologie che permettono di riuscire a ottenere dei risultati in vari campi. E quindi da questo punto di vista gli ENFN non solo finanzia la ricerca nel campo della fisica nucleare e supranucleare, ma anche appunto tutta una serie di sviluppi tecnologici, tra cui per esempio questa ricerca, DARTWords. Tra l'altro una cosa che voglio sottolineare, gli ENFN è l'unico ente europeo, non americano anzi, che partecipa a questo progetto, perché tutti gli altri enti, tutte le altre istituzioni sono state in un certo senso, non sono state selezionate, quindi gli ENFN a livello nazionale è stata selezionata e qui a Lecce abbiamo una parte dello sviluppo di questo progetto. Mi chiamo la signora ad accomodarsi perché siamo in diretta, signora, benvenuta, salve. Grazie direttore per questo overview, è molto importante sapere appunto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha avuto questo ruolo centrale. Ecco, chiederei invece ad Andrea Giochero. Questo nome, DARTWords, pesca un po' forse dalla science fiction, come nasce la ricerca di questo nome per il progetto. Grazie. 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 Grazie, Andrea Giaccaro, interessantissimo. A questo punto chiederei ai nostri ospiti quali sono i passi successivi della ricerca all'interno di questo progetto, quali sono i prossimi obiettivi? Direttore, chiedo a lei. È microfonato, ecco, finalmente si è microfonato. C'è un altro microfono adesso. Beh, chiaramente, diciamo, in qualche modo è stato illustrato anche da Anna prima, cioè l'obiettivo è quello di riuscire a sviluppare i computer quantistici che riescono a un certo punto a essere estremamente utili nel campo della ricerca anche in fisica nucleare e subnucleare. Quindi sicuramente riuscire a portare avanti questa ricerca, nello specifico nel caso di Datto Forse, questi amplificatori a basso rumore, quindi al limite dell'umore quantistico, sono molto utili sia nel campo ovviamente del computer quantistico, lo sviluppo dei computer quantistici, ma non solo, perché gli edifici hanno un interesse generale anche per il rivelato di particelle in generale. Quindi per processi, c'è una mosca che mi sta torturando. Sì, abbiamo una mosca che è intervenuta, nessun problema. Scusate. Il bello della diretta, mi prego. Chiaramente sono molto interessanti, molto utili anche per applicazioni nel campo dei rivelatori, perché ci sono processi in cui il rumore deve essere ridotto quanto più possibile, per vedere processi che appunto emergono appena dal rumore, quindi ci devono essere rivelatori che sono estremamente poco rumorosi e questo tipo di amplificatore è molto utile anche in questo genere di applicazioni. Grazie, grazie direttore. Mi piacerebbe che qualche spunto su questo argomento fosse dato anche da Giuseppe Maruccio che è qui con noi, non so se è esattamente a favore di Camera. Ricordiamo che Giuseppe Maruccio è coordinatore del progetto Vernapulia, quindi l'European Research Night, è anche associato all'INFN e ordinario presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università del Salento. Gli lasciamo la parola. Dark Wars, qualcosa che non abbiamo ancora detto e qualcosa che potremmo aggiungere su questo interessantissimo progetto rispetto a quello che hanno già illustrato i nostri ospiti. Il primo aspetto mi vorrebbe raggiungere è che questo progetto è esemplare di come funziona la ricerca in questi settori. Infatti nasce da, ad esempio, il nostro coinvolgimento nasce da una pubblicazione fatta su un articolo, vista da colleghi in Italia dell'INFN, ci hanno scritto, abbiamo iniziato a interagire, ci siamo incontrati in un meeting scientifico in cui l'INFN voleva stimolare il lavoro, la ricerca sulle tecnologie quantistiche e dargli la discussione a questo meeting e da interazioni e conoscerci anche con altri colleghi è nato il nostro coinvolgimento nel progetto. Ecco, quanto è importante, e questa è una domanda che rivolgo, insomma, mi piacerebbe a tutti i nostri ospiti, anche il direttore nel frattempo ha ceduto il posto, quanto è importante questo dialogo all'interno della comunità scientifica? Quindi la capacità di scambiare informazioni, la capacità di fare rete, penso sia uno dei fattori fondamentali, soprattutto oggi. Rispondo io? Sì, è un aspetto molto importante anche perché in tante volte le nuove scoperte vengono all'interfaccia tra diverse discipline, magari in questo caso, sotto discipline possiamo dire, perché noi applichiamo tecnologie quantistiche, pensiamo possano essere anche utili per la ricerca sulla fisica fondamentale, sulla ricerca sulla materia scura di cui si parla tanto e affascina il pubblico, oppure possono essere anche l'interfaccia tra fisica e ingegneria con la medicina per sviluppare nuovi dispositivi diagnostici per una medicina di precisione e di personalizzata. Quindi il dialogo diventa estremamente importante. Quindi l'interdisciplinarità, la commissione se vogliamo di ricerche, la congiunzione in punti fondamentali. Direttore, vuole aggiungere qualcosa rispetto a questo punto che oggi insomma è attualissimo e importante? Sì, sicuramente l'interdisciplinarità è estremamente importante proprio perché... Taranto è una colonia greca di fondazione spartana, Vetulonia è un'importante città appartenente alla Dodecapo di Eta, Tarusca, uno dei più importanti centri dell'Estruria settentranale, in cui quindi si parla una lingua differente e la cultura è profondamente diversa rispetto a quella che abbiamo contestualmente qui a Taranto. Abbiamo comunque deciso di dedicare appunto un ampio progetto a questi due centri che in realtà presentano tra di loro degli elementi di comune a partire dalla mitologia di fondazione. L'intero progetto è stato intitolato a due figure eroiche, semidivine, che sono Taras e Vatl, che sono non solamente i nomi antichi delle due città, Taras è il nome antico greco di Taranto, Vatl è il nome etrusco di Vetulonia, ma sono anche due figure eroiche o probabilmente divine o semidivine, non conosciamo esattamente i caratteri del loro mito, della loro biografia per così dire, che hanno dato nome a queste città e che si legano intrambe all'elemento acquatico. In particolare Taras è un semidio, probabilmente forse in origine alla divinità pluviale, figlio di Poseidon, del dio del mare e di una ninfa locale legata alle acque dolci, sorgide, mentre Vatl, un personaggio in realtà misterioso di cui conosciamo solamente l'iconografia da emissioni monetali della zecca di Vetulonia del III secolo a.C., è un eroe o divinità che ci viene presentato con un abbigliamento particolare. ha in testa, esattamente come Eracle porta la leontetua e la spoglia del leone di Nemea, la pelle di un mostro marino, di un chetos, come lo definivano i greci. È quindi un personaggio che si lega strettamente all'elemento acquatico marino, fatto che potrebbe sembrare sorprendente dal momento che l'attuale centro di Vetulonia si trova a circa 20 km dal mare, è un sito d'altura, ma in realtà nell'antichità questo centro era a tutti gli aspetti un centro marissimo, un centro proiettato sul mare, o meglio su un'ampia laguna interna, il lago Prile, che aveva acqua salmassa, era in collegamento quindi con il mare aperto, e dove era presente uno scalo portuale che afferiva direttamente alla città di Vetulonia. Quindi Saras e Vakl sono due centri legati già nel mito di fondazione da questa associazione profonda, veramente essenziale, con l'elemento acquatico, che abbiamo cercato di ricostruire attraverso due mostre, una visitabile presso il Museo di Vetulonia, inaugurata nel mese di giugno, ed un'altra che è stata invece inaugurata qui al Museo Archeologico Nazionale d'Italia al Consiglio di Tarnuglio, e che vi invito a venire a visitare dal momento che rimarrà aperta fino al 9 di gennaio. La mostra Tarantina si articola in due sessioni, che vi presento brevemente, poi in appendice a questo intervento, vedremo dei video che vi mostrano in particolare la prima sessione della mostra. Prima sessione che è dedicata a Vetulonia e propone per la prima volta la ricostruzione a scala reale, uno a uno, di una tomba a tumulo del territorio di Vetulonia, quindi non propriamente della necropoli del centro antico di Vakl, ma di una comunità di villaggio del territorio di Vetulonia che si trovava a circa 10 km dal centro principale, nella località odierna di Poggio Pelliccia. Noi abbiamo proposto, nella prima sessione della mostra, una ricostruzione in scala uno a uno della tomba a camera e del dromos, cioè del corridoio di accesso, di questa monumentale tomba a camera. La seconda sessione della mostra, invece, è dedicata a Taranto e ha come obiettivo quello di mostrare quello che avviene in questo centro della Magna Grecia contestualmente al periodo in cui rimane in finzione il tumulo di Poggio Pelliccia, che è un periodo molto lungo, dal momento che dopo la fondazione, intorno alla seconda metà del VII secolo avanti Pelliccio, questa tomba rimane in funzione, viene utilizzata per generazioni all'incirca fino al 470 avanti Pelliccio, cioè fino all'inizio del V secolo. Nella seconda sessione, quindi, abbiamo deciso di mostrare, in molti casi per la prima volta al pubblico, selezionandoli appositamente all'interno dei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, una serie di corredi provenienti dalle necropoli artaiche della primissima età classica dell'antica Taras, che hanno all'interno materiali che in qualche modo dialogano con quelli rinvenuti nel tumulo di Poggio Pelliccia. Sono materiali provenienti da centri di produzione, distribuiti in tutto il bacino del Mediterraneo, e in particolare, tra le fasi più antiche, vengono da alcuni centri del Mediterraneo orientale, distribuiti tra le coste occidentali dell'attuale Turchia e le isole dell'eggeo orientale, come Arosi, Samo e Pio, manufatti di prestigio importati appunto da questi centri geograficamente molto lontani dell'Oriente Mediterraneo, che noi ritardiamo nello stesso periodo anche nelle tombe di Veculonia e in particolare nel tumulo di Poggio Pelliccia. Nella prima sessione, vi dicevo, abbiamo riproposto questa ricostruzione al naturale appunto del tumulo di Poggio Pelliccia, grazie anche all'intervento di Nicola Genico, artista di Putignano, nonché erede di una illustre tradizione di maestre cartapestai di questo centro della Puglia, che è appunto una tradizione molto solida, molto importante nell'ambito della lavorazione della cartapesta, che oggi ci mostrerà quali sono le tecniche utilizzate per la realizzazione di questa ricostruzione che si basa sul rilievo archeologico fedele del monumento areale. Quindi non abbiamo aggiunto nulla di fantasia, ma abbiamo lavorato in maniera filologica a partire appunto da un rilievo dettagliato del monumento, ricostruendolo grazie appunto all'intervento di Nicola Genico, perché ha lavorato anche a stretto contatto con maestranze di un altro centro, questa volta del Tarantino, che ha a sua volta una tradizione nell'ambito della lavorazione della cartapesta, che è Massatra, con appunto maestranze che hanno affiancato appunto Nicola Genico nel suo lavoro. Quindi io cedo la parola a Nicola, che ti mostrerà alcune tecniche. Grazie, grazie Lorenzo. Buon pomeriggio. Allora, entriamo proprio nel tecnico della tomba che abbiamo costruito. Come ha detto, come ha anticipato il dottor Mancini, dopo vedrete un filmato dell'intero lavoro, vi renderete conto di ciò che è stato realizzato. Adesso, come vi dicevo, rientriamo nel tecnico e quindi vi spiegherò fase per fase come abbiamo realizzato l'opera. Sulla base dei rilievi, come dicevamo prima, dei rilievi ricevuti dallo studio toscano, i rilievi, le planimetrie, le sezioni che hanno ripreso fedelmente la tomba di Poggio Pelliccia, abbiamo lavorato ricostruendo zona per zona la tomba stessa. Quindi partendo dal Dromos, il corridoio esterno, abbiamo costruito la struttura di base. La struttura di base, in questi casi in scenografia, viene realizzata essenzialmente con listelli di legno su cui si applica una pannellatura in compensato e questa struttura è lo scheletro di tutta la tomba, quindi anche il vestibolo e la camera funeraria. Questa struttura rispetta le misure fedelmente, le misure che abbiamo ricevuto dallo studio tecnico, dai rilievi tecnici toscani. Quindi questi listelli riprendono tutte le dimensioni e finita questa parte strutturale, questa parte portante, siamo passati alla fase più artistica, cioè la ricostruzione. Stiamo parlando di una tomba in pietra, per cui il materiale che abbiamo riprodotto è essenzialmente pietra, pietra che in questo caso specifico è vulcanica, essenzialmente vulcanica perché quella è una zona tipica di questa roccia. Quindi la parte artistica è consistita nello scolpire, adesso vi prendo un foglio di polistirolo, siamo partiti da questa base dove abbiamo disegnato pietra per pietra tutta la muratura, sia interna che esterna, compresa la cupola circolare a cono. Quindi rispettando la tipologia di pietra del posto non abbiamo inventato niente, dovevamo riprodurre fedelmente ogni particolare, restituire fedelmente ogni particolare, soprattutto per non creare un falso tra i reperti reali, tra i reperti che abbiamo inserito all'interno della tomba e ciò che abbiamo creato, ciò che abbiamo ricreato. Quindi, tecnicamente, torniamo al tecnico, abbiamo disegnato queste pietre una per una su questa pannellatura, dopo le abbiamo incise con un taglierino, adesso vi faccio vedere, quindi tutti i solchi pietra per pietra, un lavoro, quando vedrete il filmato del lavoro finito vi renderete conto di quanto lavoro ci sta sotto, dietro a questa fase che vi sto mostrando, e quindi questa fase di scultura delle rocce viene definita con la fiamma e questo, su questo materiale, polistirolo ignifugo, restituisce la superficie in maniera perfetta delle rocce. Chiaramente con un po' di abilità si riesce a ottenere un effetto realistico. Fatta questa prima fase di scultura, abbiamo deciso di unire due tecniche, una della carta pesta e quindi su questo stampo, questo è diventato in pratica lo stampo, la base, su questo stampo abbiamo fatto un calco in gesso, un calco in gesso qui è già realizzato ed è questa porzione di muratura, questo calco in gesso è stato rivestito con la carta, quindi la classica tecnica della carta pesta a strati. Foglio, pezzettino di carta per pezzettino di carta, abbiamo creato il muro così come lo vedrete nella tomba. Chiaramente questa è una porzione, noi stiamo parlando invece di una superficie di quasi 200 metri quadrati all'interno della tomba stessa. Questo è il risultato in carta pesta. Abbiamo preferito unire due tecniche, questa è la carta pesta e lasciare in alcune zone il polistirolo ricoperto chiaramente di resina, di stucchi in modo da renderlo resistente al tatto. questo per dare un effetto più realistico in un caso e un altro effetto nell'altro caso. Quindi tornando a noi, una volta realizzata la zona di pietra in carta pesta si è passata alla colorazione. la colorazione sempre con colori ad acqua siamo stati attenti a non usare vernici infiammabili chiaramente perché stiamo sempre parlando di un museo e quindi non potevamo utilizzare materiali infiammabili. A questo punto con i colori ad acqua siamo passati alla colorazione. la colorazione consiste nell'intanto decidere quale tipo di pietra stavamo colorando e quindi se è una pietra calcare una pietra vulcanica una pietra arenaria in questo caso è una vulcanica quindi di un colore grigio grigio ed esterno quindi ancora più scura la pietra all'interno ha una colorazione leggermente diversa più chiara fino ad arrivare al marroncino che è la pietra usata all'interno della tomba della camera funeraria quindi sulla bassa in cartapesta abbiamo passato questa prima colorazione che è il colore di fondo della pietra scelta vi faccio vedere velocemente solo una piccola parte quindi scelto il colore di fondo si è passati alle sfumature e ai particolari cercando di non allontanarsi dall'effetto realistico la particolarità dei colori ad acqua è che ci permette di ottenere un effetto quanto più verosibile possibile solo utilizzando anche l'acqua sporca di pulitura dei pennelli questa è una tecnica che in scenografia in scenotecnica è ampiamente utilizzata in questo caso funziona benissimo perché dobbiamo riprodurre fedelmente una parete di roccia non abbiamo voluto utilizzare resine o materiali particolarmente tossici proprio perché per il rispetto comunque dell'ambiente quindi come dicevo con i colori ad acqua è più semplice realizzare ottenere un effetto naturale dei solchi delle sfumature dei difetti della pietra stessa un effetto Grazie a tutti. Ed ecco una piccola porzione di parete in pietra. Chiaramente, ripeto, quando vedrete, io spero veniate a visitare la tomba qui al museo, vedrete l'entità del lavoro. Questa è una piccola porzione. All'interno della tomba vi renderete conto di quanto lavoro sia stato fatto. Ecco qui. Immaginate questa piccola porzione ripetuta per un centenario di volte. E quindi tutto questo lavoro, che qui sembra fatto in pochissimo tempo, anche perché dopo verrà assemblato sulla struttura, ecco, ritornando alla struttura, finita questa prima fase, viene assemblata sulla struttura portante che era già stata montata all'interno del museo. E questo è il lavoro completo. Immaginatelo adesso su una superficie di 200 metri, come dicevo prima, con tanto di cupola, con tutti gli ambienti, tetti, corridoi coperti, corridoi scoperti. Penso sia stata chiara come spiegazione, come tecnica. Grazie a voi. Ringraziamo Nicola Genco per questa presentazione. Quindi io vi invito a venire quanto prima a visitare la mostra Taras e Vassle, protagonisti del Mediterraneo a confronto qui al Museo Archeologico Nazionale di Taranto e a visitare anche la mostra che contestualmente è ancora allestita al Museo di Betulonia, la cui direttrice, tra l'altro a Simona Raffanelli, ha contagiato attivamente anche alla realizzazione della mostra Tarantina. Non solo lei, ma anche il padre, Luigi Raffanelli, ha successo che è stato fondamentale nell'elaborazione delle grafiche e poi sono state alla base appunto del lavoro. Eh sì, perché lì c'è stato... Quindi ora vi proponiamo questa piccola anteprima di mostra attraverso i video che abbiamo realizzato all'interno della ricostruzione della coppa. Grazie a voi. Grazie. 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 interamente dominata dalla ricostruzione di un importante contesto funerario del territorio di Vetulonia, si tratta del tumulo di Poggio Pelliccia che per la prima volta è stato ricostruito in scala 1 a 1 proprio qui nelle sale del nostro museo. Il visitatore avrà quindi la possibilità di vivere un'esperienza immersiva totale, di percorrere il domos, cioè il corridoio di accesso alla camera funeraria e di vedere gli oggetti appartenenti ai corredi di questa importantissima tomba non all'interno di vetrine ma dei posti al di sopra dei letti funerari, rivivendo così l'emozione degli archeologi che entrano per la prima volta in una tomba appena scoperta. Venite quindi ad ammirare questa ricostruzione che è stata realizzata grazie alla creatività dell'artista Nicola Genco sulla base di un accuratissimo rilievo architettonico del monumento e coniugando la tradizione della carta pesta di due centri della Puglia che sono Putignano e Massafra, qui nella mostra Taras e Vatla aperta fino al 9 gennaio del prossimo anno. Grazie. 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 Qualche volta nei giardini si vedono degli esemplari di ginco anche in estrema sofferenza perché per quanto sia una pianta estremamente resistente come tutte le piante anche ha bisogno di cura. È una pianta che è fonte di sostanze medicamentose tant' è vero che ci sono dei prodotti a base di alcuni metaboliti secondari che vengono usati per la cura delle patologie del microcircolo, da ultimo e anche i suoi semi sono cibo perché con precauzione possono essere consumati in alcune ricette di cui è esperta la cucina orientale. Un grande consumo è da sconsigliare perché contengono anche delle sostanze tossiche. E' inserita l'ultima cosa che vi dirò nella lista delle piante da proteggere. Voi mi direte ma sta negli orti perché bisogna proteggere? Perché c'è una sorta di discriminazione, come vi dicevo prima, di genere proprio delle piante femminili che tendono ad essere sempre rare. Ci sono tantissimi aspetti sia antichi che moderni in questa pianta, per esempio la fecondazione avviene attraverso cellule che si muovono in un mezzo acquoso, quindi caratteri antichi, caratteri a ponte con altri organismi e quindi tuttavia, questo che vedete è un bellissimo bonsai, si presta anche questa pianta a questa specie di... e con questo dicendo che è anche una specie protetta, concludo e vi invito a considerarla un ponte fra generazioni, un simbolo di pace e anche a interessarvi di questa specie. Grazie. 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 Grazie, grazie. Grazie a tutti. infatti adesso non stanno prendendo dati perché è giorno non deve essere sicurale, non deve essere sicurale, non deve essere sicurale e questo è quasi possibile per le azioni di testini anche di ciò che non c'è stata razza, sicuramente le azioni un po' non sono molto basse quindi la vita di tutti sono una prova provincia in realtà all'inizio dell'anno argentina e quindi un po' facciamo a modificare il giusto europeo e vada naturalmente in una delle altre decisioni che praticamente è un giorno importante della sua successività due e due e due, 15 giorni, 15 giorni più grandi suveglia la migliaia, la notte, ma è comunque un periodo che praticamente questo tipo di dinamica che condiziano da tutti quindi ci sono meccanismi di condivisione del loro per il corso della domanda il lavoro ci sono anche il baserino attraverso altre stazioni di testa e quindi c'è tutto la loro lavorazione concivuta da diversi ne abbiamo dovuto una decina di queste stazioni il loro capitale delle due, le famiglie del centro di Torino ne andiamo tre o quattro giornali si è stato trovato in Francia e ne abbiamo una... insieme a un certo giorno le queste stazioni non sono tantissime però comunque queste stazioni che hanno fatto quindi diciamo a spavimento del livello di crescenza e questo è molto importante ok ok ti ringrazio e andiamo ti metto in background così puoi vedere anche tu la presentazione e ripartiamo da dove eravamo rimasti quindi abbiamo detto abbiamo un altro messaggero un messaggero che ci arriva da fuori della nostra galassia a queste energie ovviamente noi possiamo vedere diverse energie però un'altra cosa che volevo dirvi sui messaggeri è quella che abbiamo scoperto da poco e cioè lo sapevamo già che Einstein avesse ragione però nel 2016 è stata richiarata la scoperta breakthrough cioè proprio eccezionale dell'anno ed è anche valsa il premio Nobel del 2017 a quelli che hanno fatto funzionare e portato ai massimi livelli i rivelatori LIGO e anche Virgo i rivelatori di onde gravitazionali questo è un nuovo messaggero non sappiamo ancora quanto lontano ci porterà ma sicuramente siamo stati capaci cioè la cosa che rende l'idea è siamo stati capaci di rivelare una vibrazione nello spazio nello spazio tempo diciamo una vibrazione dell'ordine del capello successa in uno spazio più lontano della stella più vicina cioè la precisione di un capello su una misurazione di una distanza di una stella in realtà l'evento che abbiamo misurato è stato talmente lontano che non ci rendiamo nemmeno l'idea di quanto sia cioè un giga parsec milioni di anni luce per arrivare da noi quindi però invece la distanza di una stella e la precisione di un capello vi rende l'idea di che strumenti eccezionali sono stati capaci di costruire gli uomini in realtà proprio la nostra fisica la fisica delle astroparticelle è un'altra di quelle cose si dice sempre l'arte ci distingue dalle scimmie ma anche la fisica delle astroparticelle ci distingue ci distingue dall'animale diciamo così quindi quello che volevo farvi di cui volevo rendervi l'idea è che si sta facendo uno sforzo comune uno sforzo comune per capire il nostro universo e proprio questo evento di onde gravitazionali che si è generato dalla fusione di due stelle di neutroni oppure di due buchi neri nel lontanissimo universo è stato guardato poi osservato da tutti gli altri da diversi altri esperimenti tra cui il nostro che per caso in quel giorno in quel momento poteva vedere particelle provenire da quella direzione nello spazio quindi tutti i rivelatori sono stati allarmati un allarme positivo che ha permesso a tutti gli esperimenti guardando su diverse frequenze in diverse finestre temporali di concentrarsi su quella zona nello spazio e di capire che cosa che cos'era successo cioè un evento cataclismatico due stelle di neutroni che si uniscono spiraleggiando insieme poi si uniscono e mandano una energia incredibile sotto forma di particelle verso di noi e questo è un'altra di quelle cose che vengono da uno sforzo comune un'altra sorgente che ci ha mandato un neutrino anche questa è una sorgente lontanissima fuori dalla nostra galassia Texas 0506 che nome strano però l'esperimento Ice Cube che sta al polo sud e nel ghiaccio e nel ghiaccio sono state scavate dei buchi e ci sono state messe delle specie di lampadine al contrario che mandano un segnale elettrico quando arriva la luce è una particella che emette luce nel ghiaccio ognuno di questi puntini è una di queste lampadine guardate quante sono e questo neutrino ha interagito con il ghiaccio ed ha prodotto un mone che ha prodotto energia visibile da tutte queste lampadine la direzione di arrivo è stata ricostruita un allarme vedete qua uno schermo nero tipico dei fisici un allarme che viene mandato e tutti gli esperimenti che erano attivi in quel momento tra cui Agile e Magic che sono esperimenti in cui anche l'INFN ha una grossa parte hanno potuto rivelare nella stessa zona del cielo un nucleo galattico attivo rivolto verso di noi che ci manda delle particelle ad altissima energia ora vi faccio vedere ecco uno di questi incredibili nuclei galattici attivi cioè questo è una cosa delle dimensioni di milioni di masse solari una cosa gigantesca al centro di questa galassia di questa numbe di polvere c'è questo buco nero gigantesco che è nero perché attrae tutto con una forza tale che nemmeno la luce esce però siccome la materia che sta intorno viene attratta e collidendo va a aumentare la massa del buco nero però qualcosa deve uscire e esce ai poli dove il campo magnetico la fa andare vedete anche per esempio questa foto è la stessa cosa cioè il buco nero è qui intorno c'è tutto questo toro ruotante intorno all'asse del campo magnetico che è questo e i jet cioè che sono appunto flussi di particelle che partono dal buco nero e incontrano la materia che sta a milioni di chilometri a distanza questo particolare che abbiamo visto prima questo asse ce l'ha verso di noi per cui la materia è stata capace di arrivare fino a noi quindi ci sono arrivati i raggi cosmici le particelle da quella parte lì i raggi gamma eccetera questa altra cosa è l'esplosione di una supernova questa è un'altra cosa bellissima che c'è quando un'animazione che fa vedere questa regione dove l'esplosione a una velocità di migliaia di chilometri al secondo può accelerare delle particelle quest'altra cosa qui sono addirittura due galassie che nel tempo, ora qui è accelerato ovviamente ma le galassie nel tempo subiscono la trazione gravitazionale e andranno, e ce ne sono alcune che stanno collidendo e anche qui si generano degli shock e le particelle possono essere accelerate continuamente ora, per farla semplice Fermi è stato quello che l'ha capito questo meccanismo di accelerazione è come un po' la racchetta da tennis se uno parte con la racchetta e la pallina bastano due o tre tocchi e la pallina accelera ma tanto, tanto che con i servizi si arriva anche a centinaia a cento, duecento chilometri all'ora ma anche invece quando uno palleggia questa a ogni scontro la particella guadagna energia guadagna energia e la continua a guadagnare la stessa cosa succede in queste superfici dello shock, per esempio della supernova le particelle che stanno di qua e di là dallo shock, dalla regione di shock vengono accelerate un po' come la racchetta andando avanti e indietro e alla lunga, diciamo così acquisiscono sempre più energia le guadagnano talmente tanta che vengono rivelati da noi ecco questo è la... ora, se andate su di sopra poi vedrete anche un altro modo per accelerare particelle io vi ho messo qui dei reminder degli inviti, diciamo così per andare anche a visitare gli esperimenti dei nostri colleghi ok sì, perché dottoressa ricordiamo appunto che nella parte centrale quindi dell'ex monastero appena all'ingresso possiamo visitare ed esplorare tantissimi laboratori ed esperimenti interattivi dedicati a bambini e ragazzi ma anche ad aziende ed adulti e questo è il valore aggiunto di questa manifestazione la possibilità di entrare nel mondo della scienza e di toccarla con mano eh sì, questa è anche... si può fare quasi a casa non esageriamo allora, queste particelle ora, questo è brutta per magari per uno che non è dentro questa cosa ma questo è soltanto un grafico che dice da che distanze ci possono arrivare le particelle questo dipende dalla loro energia iniziale perché tutte le particelle protoni, nuclei, anche fotoni di luce incontrano nel loro cammino una radiazione di fondo che con cui interagiscono fanno altre particelle perdono la loro energia e insomma incontrano non solo quello ma anche i campi magnetici per esempio la galassia ha un suo campo magnetico che devia tutte queste particelle le devia meno se hanno più energia quindi più le particelle sono energetiche più ci punteranno alla loro sorgente oppure l'altra idea è che le particelle non siano cariche allora ci arrivano dalla sorgente come i fotoni della luce visibile che ci arrivano proprio dalla stella per esempio che li ha prodotti ora, perché li studiamo questi raggi cosmici? non sono pericolosi anche se giornalmente anche ogni minuto ci attraversano probabilmente alla lunga ci cambiano anche l'evoluzione chissà è stata magari persino triggerata causata dai raggi cosmici ma quello che quello che il perché noi li studiamo è perché ci sono perché sono abbondanti e sono più abbondanti cioè sono abbastanza abbondanti il 20% di quella che è la raggiattività naturale che c'è per esempio qui che esce dalla terra e dalla rocce e quindi noi vogliamo scoprire la natura di questi raggi cosmici e le interazioni che hanno con le altre particelle ma soprattutto siccome hanno energie che noi non possiamo riprodurre sulla terra ci possono dare delle informazioni anzi gratuitamente diciamo delle informazioni che i nostri acceleratori non ci possono dare quindi una fisica anche potenzialmente nuova andando a esplorare anche la materia l'energia oscura nel cosmo quindi due slide di storia solo per farvi capire che che dopo la scoperta della radioattività naturale le prime cose che sono state si è capito insomma che questa radiazione che questa radiazione variava in base alla quota a cui noi andavamo a misurarla questo lo si è capito con un elettroscopio che è una macchina anche molto semplice infatti qui c'è un altro quadratino che vi fa capire che potreste per esempio andare voler andare a costruirne uno cioè è fatto in modo tale che che queste due linguette di AME tipicamente si separano più la carica più la carica si accumula su queste due cariche elettriche che arriva da fuori insomma sullo stesso segno quindi più si accumulano cariche più queste due queste due linguette essendo cariche nello stesso modo si separano allora con questo e qui c'è il vuoto però e quindi qui soltanto sono le particelle della radioattività naturale in cui siamo immersi loro pensavano possono scaricarla ma poi sono state sono state fatte diverse misure cioè quando si è visto che queste due linguette alla fine tornavano attaccate quindi qualcosa era successo perché non erano più cariche si è provato ad andare per esempio sulla torre Eiffel e quindi dicendo la radioattività naturale andando sulla cima della torre diminuirà perché deriva dalla terra e quindi non succederà più che si scarica l'elettroscopio se io gli do una carica iniziale e invece e invece hanno visto che sì è vero le particelle alzandosi in quota diminuivano ma non abbastanza non abbastanza e nello stesso tempo anche Pacini che era un fisico italiano è andato a fare delle misure anche sott'acqua perché lui diceva se per caso queste particelle non fossero radioattività naturale ma fossero invece qualcos'altro vedi la genialità delle persone anche senza soldi senza tanti soldi come tipicamente gli italiani sono la genialità sua ha detto vediamo cosa succede andando in profondità sotto il mare e lui ha visto che diminuiva non è che la terra sotto la faceva aumentare quindi cosa è successo poi quello che li ha veramente scoperti e che in tutto il mondo è conosciuto per aver scoperto i raggi cosmici anzi per averli chiamati raggi cosmici è Victor Hess che è un tedesco che appunto era dotato di più risorse alla ricerca ed è riuscito ad organizzare un volo su un pallone e a fare questo grafico che fa vedere quanto andando anche sulla torre Eiffel si vede un po' di discesa ma poi il flusso delle particelle aumentava addirittura andando con un pallone sopra la terra e quindi cosa vuol dire che non era la radioattività della terra perché perché aumentava allontanandosi dalla terra e perciò il nome raggi cosmici quindi e che aumentano con la quota anzi cioè venendo sulla terra diminuivano perché si perdevano nelle interazioni perdevano l'energia quindi inizia quella che si chiama la fisica diciamo così tra l'altro proprio quella delle particelle perché non c'erano ancora acceleratori o altri punti dove si studiavano questo si capisce che le particelle vengono da fuori allora cerchiamo di fotografarle cosa sono queste particelle sono è luce sono particelle cariche allora l'elettrone si conosceva già si scopre anche il positrone cioè adesso lo sappiamo l'antimateria tutto ha una controparte col segno opposto l'antimateria e poi si scoprono le altre particelle fondamentali il muone che e anche pioni particelle strane poi i nomi mancavano quindi li hanno creati hanno detto sono strani hanno cercato di chiamarli ma la prima cosa che sono riusciti a fare poi con questo nome improdunciabile è costruire una macchina fotografica per particelle questa anche questa forse sono riusciti i nostri colleghi ad installarla fuori per vedere se siamo fortunati con la luce le tracce dei raggi cosmici che stanno passando in questo momento da noi lui mettendo un campo magnetico ha visto che queste particelle facevano un'orbita circolare che quello che succede è una particella carica immersa in un campo magnetico e quindi ha detto non sono fotoni sono particelle cariche però invece come spesso le cose sono sempre entrambe magari quindi ci sono sia i fotoni nei raggi cosmici e sia particelle cariche nuclei o anche i più piccoli componenti come i protoni allora adesso la domanda è chi cioè qualche persona importante del nostro del nostro campo quello più importante per il nostro osservatorio che si chiama osservatorio Pieroget è ovviamente Pieroget e lui che cosa cosa ha concluso lui aveva dei contatori di particelle le voleva contare le ha separati sulle alpi in montagna le ha separati con metri di distanza e ha visto che questi contatori scattavano insieme e allora cosa ha capito ha capito che che doveva esserci una cosa unica che ne generava delle altre nello stesso momento cioè una particella che forse potesse generare altre particelle su una superficie più grande questo tra l'altro è una cosa anche strana da pensare se avesse avuto dei rivelatori magari temporalmente più precisi non l'avrebbe capito perché avrebbe detto ok questo scatta a questo tempo questo scatta in questo tempo quindi le scoperte vengono di passo con la tecnologia e alcune non sarebbero state nemmeno scoperte perché si sarebbe concentrati adesso stiamo concentrando sui dettagli e lui invece ha capito una cosa fondamentale che queste cose avvenivano insieme se avesse avuto il dettaglio di 0,0002 secondi e l'altro era 0,0004 secondi magari non avrebbe capito per cui passo passo si va avanti nella macrovisione che oggi non avrebbe quella sì un altro importantissimo un altro personaggio è John Linsley che vedete in questo bellissimo deserto nel New Mexico negli anni settanta ha costruito il primo rivelatore di questi che Auger aveva capito si chiamavano sciami estesi sciami atmosferici estesi cioè docce di particelle che si estendevano su una superficie di anche chilometri centinaia di metri chilometri e lui è il primo che ha rivelato in questo modo mettendo i contatori a distanziati l'uno dall'altro una particella di energia 10 alla 20 elettronvolt questo numero incredibilmente grande che vuol dire 20 zeri qua 20 zeri ci sono perché 10 alla 20 che è migliaia di volte l'energia del del CERN dell'acceleratore costruito più grosso costruito da noi l'ha rivelato per la prima volta negli anni settanta ok questi questi sono i miei figli per dire questi magari saranno dei personaggi importanti nella ricerca ma anche no quindi questo intermezzo comunque quindi quello che è chiaro è stato chiaro dagli anni pian piano che andavamo avanti in questa ricerca è che più le particelle avevano energia meno ce n'erano questo vuol dire questo è il flusso e questa è l'energia quando aumenta l'energia il flusso scende scende proprio tantissimo e quindi quei flussi attesi sono per esempio nelle nostre energie che vi ho fatto vedere prima 10 alla 20 elettronvolt una particella al chilometro quadro al secolo cioè cento anni e tu dici abbiamo così tanta pazienza per vedere per vedere una particella in cento anni no non ce l'abbiamo quindi dobbiamo lavorare su questo fattore cioè la superficie fare un esperimento su una superficie grandissima in modo tale da da poter avere abbastanza statistica abbastanza numero di particelle che arrivano quindi questo è quella che vi ho detto prima lo sciame esteso cioè uno sciame di particelle di miliardi di particelle che derivano da una sola che si che scontrandosi con l'atmosfera produce altre particelle vi faccio vedere un esempio di un rivelatore possibile cioè mettere distanziati dei rivelatori oppure guardare nelle notti come diceva prima Lorenzo nelle notti buie senza luna guardare la luce debolissima di fluorescenza emessa da queste particelle quando incontrano le molecole dell'azoto nell'atmosfera le molecole dell'azoto ricevono energia da queste particelle e la riemettono sotto forma di luce e questa piccola luce noi di notte la riveliamo oppure anche la luce Cerenkov che è un altro ancora fenomeno che noi anche usiamo nel nostro esperimento per rivelare rivelare le particelle quindi alla fine a terra abbiamo la maggior parte sono proprio luce ed elettroni la parte elettromagnetica si chiama così quelli più penetranti più energetici sono i muoni che sono anche quelli che si misurano in un altro esperimento adesso ve lo faccio vedere e quindi questo è quello che andiamo a vedere i muoni sono una specie di elettrone però un po' più pesante e guardate il numero ora questo non guardatelo guardate il numero uno o due muoni al centimetro quadro al minuto cioè vuol dire che in un centimetrino quadrato di noi della nostra pelle ogni minuto ci attraversa un muone quindi sono tanti queste particelle che arrivano quindi se volete qui sempre nel corridoio qui fuori abbiamo un rivelatore dimostrativo per rivelare questi muoni soprattutto che arrivano proprio qui e quindi vi invito anche andare a vedere questa cosa ecco vi faccio vedere la nostra simulazione noi lavoriamo con i computer i computer gestiscono la simulazione ve lo faccio rivedere ecco da una particella se ne generano migliaia di altri a questa energia che è più bassa se ne generano di meno ma all'energia di 10 alla 20 sono miliardi e questi miliardi di particelle si muovono insieme con un e vengono rivelate da tante delle nostre rivelatori che sono messi a terra il modello più semplice è questo qui che vi fa vedere come da un fotone si possono produrre due particelle da ogni particella un altro fotone l'altro fotone fa altri due questo è quello che si chiama esponenziale l'avete visto sentito parlare tante volte durante la pandemia questo è uno esponenziale con la base 2 e quindi questo dopo dopo poche altre interazioni diventa un numero grossissimo sembra piccolo il numero qui sono solo 2 qui sono 4 qui sono 8 ma in brevissimo tempo anche i contagiati diventavano migliaia quindi questo dà l'idea delle proprietà dei nostri sciami si ingrandiscono arrivano al massimo e poi nell'aria perdono la loro energia per questo per questo è importante osservarli alla quota giusta ed ecco che noi siamo andati per vedere le particelle a questa energia alla quota giusta questa è la pianura in Argentina dove noi abbiamo messo i rivelatori nostri e sta a 1500 metri a livello del mare questo è il posto in Argentina dove siamo le coordinate e la cosa è grande come dicevo prima questo invece è il salento cioè se tu non hai pazienza di aspettare cent'anni per una particella al chilometro quadro devi costruire una cosa di 3000 km quadri allora vedrai 30 particelle all'anno e quindi questo abbiamo fatto abbiamo equipaggiato però ecco non è che la trovi nel salento una superficie da equipaggiare con i rivelatori quindi siamo andati in Argentina in questa pianura che vi ho fatto vedere e abbiamo messo queste ognuna di queste è uno dei nostri rivelatori le abbiamo messi su 3000 km quadri quindi vedete 70 km questa scala in tutto l'area è 3000 km qui c'è una piccola cittadina per il resto non c'è niente soltanto la pampa la pampa neanche tanto erbosa e neanche tanto piena di mucche poche sono però lì dobbiamo stare perché lì non c'è la contaminazione luminosa e qui abbiamo messo sia i 1600 rivelatori che vi farò vedere adesso sia ai lati di questa pianura quattro rivelatori di fluorescenza ora vi faccio vedere le foto questo è il rivelatore di fluorescenza e questo è invece il rivelatore uno dei 1600 rivelatori messi nella pampa argentina qui la foto sotto si vedrebbero ecco nella foto se ne vedono diversi e stanno a un chilometro e mezzo l'uno dall'altro siamo andati in Argentina oltre per il fatto che c'era una pianura disabitata anche perché l'aria lì è molto pulita perché per vedere quella luce veramente bassa che emettono i raggi cosmici quando passano in atmosfera bisogna avere un'atmosfera pulitissima non è sempre facile costruire un rivelatore del genere camion con le tank passano in strade che a volte sono allagate non ci sono nemmeno le strade diciamo che non abbiamo la tecnologia più avanzata in Argentina però con la forza la buona volontà e anche con un po' di astuzia si ottiene sempre il risultato e questa è la cosa più importante questo volevo farvi vedere per vedere come funziona su cosa si basa la rivelazione delle particelle nelle nostre nelle nostre nelle nostri rivelatori questo è l'effetto Cerenkov se vedete qui ci vuole una cosa per paragonarla che appartiene alla nostra una barca oppure in questo caso delle papere che stanno su un lago quando vanno a una certa velocità emettono delle onde che si propagano un po' come un cono la stessa cosa quando un aereo rompe il muro del suono quello che si dice si genera anche qui una shock che fa condensare il vapore diciamo per questo lo vediamo ma è a forma di triangolo la stessa cosa succede di cono diciamo non di triangolo un cono nello spazio la stessa cosa succede quando una particella che è relativistica che ha delle energie altissime va in un mezzo come l'acqua allora si emettono le onde e formano un cono che noi possiamo di luce che possiamo rivelare con queste sempre queste lampadine al contrario queste sono uguali a quelle che mettono nel ghiaccio e adesso vi faccio vedere l'animazione di quello che succede dentro la nostra la nostra la nostra tank diciamo così e qui emettendo la luce i fotoni di luce sbattono contro le pareti poi vengono rivelati da questi rivelatori e ok e poi vengono trasmessi segnali intorno qui abbiamo i quattro abbiamo detto i quattro rivelatori di fluorescenza e la fluorescenza funziona così i raggi arrivano su uno specchio vengono poi messi a fuoco su questa superficie dove ci sono 440 di questi piccoli rivelatori però esagonali messi come un nido d'ape e quello che si vede è una luce che passa e si accende in una direzione e da qui possiamo possiamo farlo hai il collegamento sì dottoressa devo un attimo lanciare il collegamento da foggia ok prego possiamo procedere quindi da foggia intanto in diretta dall'aula magna dell'università alle 18 dovrebbe esserci uno spettacolo se della regia mi confermate siamo in collegamento non è ancora pronto il collegamento va bene allora lasciamo la dottoressa vi faccio vedere un video che forse potete apprezzare nel vostro collegamento a finito oh no era a basso d'acqua e ora non più da un bel po' due anni forse in marzo diciamo sì cioè è una pazzia perché si fa una fatica bestiale oltre al fatto che costa anche tantissime però la vita è una esatto esatto è una pazzia perché si fa una fatica bestiale ma sempre no a conto che sono ancora precaria adesso cioè per dire hai visto la tipa in America ecco cioè questo posto è troppo però pazienza la vita è una va bene così si si cioè diciamo che piano piano ti disinnamori perché non è facile ma l'importante non avere intanto l'invidia era avere sentimenti negativi prima o poi uno deve appazientare poi insomma mio marito c'è un posto fisso e anche che se no si può non so altre altre persone sono meno fortunate mi immagino come non so te la supererò l'ultimo no ma no magari forse non sanno nemmeno spiegare cosa faccio esattamente ma io vorrei che facessero gli agricoltori queste sono immagini vere cioè questo è il cielo che si vede lì davvero è così perché il cielo è così se sono pronti poi mi interrompo eh ci sono un paese cioè quando vedi una volta questo cielo qua ma qui nel Salento non è male però questo è quello che si vede in Argentina quando siamo in Italia perché il cielo è così è proprio così questo è il centro galattico nostro ok centro ok se la regia mi dà l'ok per il collegamento da forgia perfetto benissimo vai allora in questo esperimento andremo a dimostrare un esempio di reazione oscillante ovvero una reazione in cui le quantità dei reagenti e dei prodotti variano periodicamente in particolare aggiungiamo ad una soluzione di glucosio una soluzione concentrata di idrossido di sodio per creare l'ambiente fortemente basico agitiamo la soluzione e aggiungiamo delle poche gocce di blu di melidene agitando la soluzione possiamo vedere che diventa di colore blu dovuto appunto alla presenza del blu di melidene se si lascia riposare la soluzione e dopo un certo periodo di tempo diventa in colore perché si ha la riduzione del blu di melidene ad un composto che è in colore ed è dunque responsabile del fatto che la soluzione diventa apparente ci vuole qualche minuto ci vuole qualche minuto ci vuole qualche minuto non ci vuole anche Grazie. 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 Ok. Allora sai cosa succede? Allora devi dire praticamente che in questo esperimento si dimostra una reazione. Sono in diretta. Tutti in diretta. In questo esperimento andremo a dimostrare una reazione di ossidoriduzione dell'acqua ossigenata che è una reazione che avviene molto lentamente e porta alla formazione di acqua e ossigeno. L'ossigeno che si libererà durante la reazione, che viene catalizzata in questo caso dal dietito, libera ossigeno che reagendo con il normale detertivo per i piatti va a liberare una notevole quantità di simba. Ora vedo e dimostra la ragazza. Allora, versiamo la ossigenata. Poi il detersivo per i piatti. agitiamo un pochino per far mescolare bene l'acqua ossigenata e il detersivo. e poi mettiamo il nostro catalizzatore che è il lievito sciolto in acqua, il normale lievito di birra. E adesso togliamo questi che non si sono mai. Ci racconti cosa sta succedendo? In questo momento il lievito sta funzionando da catalizzatore, cioè sta accelerando una reazione che normalmente avverrebbe molto lentamente. in questo caso l'acqua ossigenata reagisce con il detersivo e accelerata dal lievito libera una notevole quantità di ossigeno che quindi è il responsabile della formazione della scuola. Poiché il gas occupa tutto il volume a disposizione, questa scuola acqua riesce poi dalla bottiglia. Bene, questo è un interessantissimo esperimento di chimica che stiamo trasmettendo in diretta qui dall'ex monastero degli Olivetari di Lecce in occasione dell'EuroCleanse Research Night, la notte europea dei ricercatori. Andiamo un po' a curiosare nel background degli altri laboratori. Andiamo a vedere cosa sta accadendo e quali sono gli altri interessantissimi esperimenti in corso. vediamo un po' di avvicinarci qui a questo laboratorio. Ricordiamo che i laboratori e gli stand sono aperti al pubblico e che possono essere visitati raggiungendoci proprio qui all'ex monastero degli Olivetani a Lecce. Venite con noi. Ciao ragazzi, siamo in diretta sul sito e anche sul nostro canale di YouTube. una caccia di esperimenti interessantissimi. Ci piacerebbe che ci raccontasse qualcosa e che ci raccontasse anche tutto la caccia. Allora, io posso vedere l'estrazione del DNA da una banana. L'estrazione del DNA da una banana, caspita. Allora, basta un pezzo di banana. Vitarla per disgregare la parete cellulare, le varie membrane. Aggiungere un po' di soluzione di lisi, che l'avevo già preparato prima, che è costituita da acqua, aggiungere un po' di acqua, un po' di detersivo per i piatti, che serve per disgregare le membrane cellulare, e un po' di sale. Vediamo come degli ingredienti comunissimi, come il detersivo per i piatti, possono avere davvero un potere incredibile. Esatto, si può rivedere anche a casa questo esperimento. Mettiamo questa soluzione e continuiamo a pezzare. Adesso... Aspettiamo i tempi tecnici di preparazione. Ecco, raccontaci intanto che cosa sta succedendo. Allora, adesso si stanno disgregando le membrane del DNA, grazie all'azione del detergente. E invece, grazie all'azione del sale, le qualiche negative del DNA si stanno, diciamo, neutralizzando grazie all'NA più e meno del sale. Quindi, le molecole di DNA si stanno avvicinando, in modo tale da formare un altro dato. Questa è la parfa. La trasferiamo. Firtiamo. un po' di tempo. Nel frattempo prepariamo un uguale volume di alcol che appena... Quante belle? Appena si... Non lo so, vediamo. E con cosa servirà l'alcol? L'alcol, teoricamente, serve nell'alcol di DNA gioie. Quindi potremo vederlo galleggiare e assumerà la forma di un gel, di una sostanza gelatinosa. In quanto il DNA è una molecola che assorbe molta acqua, quindi ecco perché avrà una consistenza gelatinosa. 15 ml. Ma che 15 ml? Vediamo che ci vuole precisione anche dell'età. Sì, sì. Non bisogna mettere una dose di alcol a casa. No, una dose di alcol a casa. E adesso andremo a versare lentamente sulle pareti della pasta e all'interfascio dovremo vedere una sostanza gelatinosa. Vediamo subito cosa accade. Ci dici il tuo nome intanto? Giussi. Grazie Giussi per questa rappresentazione velocissima e per questa estrazione del DNA della banana. Sono sicuri. Vedete che all'interfascio già si può notare una sostanza gelatinosa. Dovresti girare un po' la provezza in modo da consentirci... Ecco, grazie. Ecco qui... Piano piano... Potete osservare che si forma la sostanza gelatinosa di cui ci parlava Josy. Eccola. Proviamo a mescolare, giusto? Piano piano... Piano piano salirà adesso perché appunto non si scioglie quindi rimane insoluta nell'alto. Certo. Non so se si vede. Ma ha una consistenza come un gel. Eccolo qua. Eccolo qua. Grazie, ma qui sta succedendo qualcosa altro di ancora... di apparimento interessante. Grazie mille ragazzi. Sorry, I can speak Italian. You can speak English if you want. Ok, can you explain what happened? This experiment is all about two things. Super saturation, nucleation and then crystallization. Basically I make the crystals. And I use different kinds of salts. This is potassium... This is copper sulfate. This one potassium aluminium. And this one potassium pericinide. I took the salt. I boiled the water, distilled water. And then step by step, slowly, I dissolved upon heating all these salts. Because whenever you heat the salt, it dissolves into the solution. So upon solution, when they are made, this was the point of super saturation. And upon room temperature, I cooled down after 48 hours. I made a video, I have video after that I can show you. And then we got these small crystals. Like these are called seed crystals. Can I touch? Yeah, you can touch. This is amazing. These are seed crystals. Wow. And these crystals you can use like with the tent. You can tie a little crystal. And you again put and suspend it in the solution. And it grows day by day. Amazing. You can make a monocrystal. Like this one. This is monocrystal. Like single crystal I grew. Or this one. For example, you can grow polycrystal. Little crystal upon single crystal. And... Crea. Yeah, you can. Crea. Thank you. Sabah. Thank you Sabah for your explanation. Thank you. Ok. I have a video. Potete provare a... Continuiamo a fare un giro per i nostri laboratori. E vediamo cosa sta accadendo qui. E c'è qualcosa di incredibile e interessante. Come appunto le... C'è un liquido che si comporta in modo davvero interessante. In modo davvero particolare. C'è un liquido. C'è un liquido che si può provare a... Ciao. In maniera decida. Ci racconti nel frattempo cosa succede? Che tipo di liquido è questo? Si chiama fluido non nucleoniano. Per cui questo fluido non ha una viscosità ben definita. E se immergiamo il dito molto lentamente, il dito affonda. Così. Se invece premiamo sul fluido in maniera decida, ha un comportamento qualsiasi simile ad un solido e il dito non affonda più. E questo qui può provare un fluido non nucleoniano. Non nucleoniano. Per cui non ha una viscosità ben definita. A differenza ad esempio di acqua, olio, che hanno una viscosità ben definita, hanno sempre quel comportamento di fluido. Qui, come ad esempio qui l'acqua che intoppiamo, mentre invece in questo caso possiamo avere dei comportamenti diversi. Questa è maigena, giusto? Amido di maigena, giusto? Amido di maigena. Amido di maigena. A seconda della forza gli imprimiamo Alpi. Grazie. Maria Rita. Grazie. Proseguiamo di qualcun altro chiede in maniera decida. Ciao! Ciao! Ciao Noemi. Ciao Noemi. Raccontaci come si comporta il pH e che cosa andremo a scoprire con questo esperimento. E' un'altra cosa. Nella cura che, ufficialmente, ci sono delle sostanze che sono definite acide basiche o neutre. Quindi non sono le acide e le neutre. Per questo motivo, noi possiamo andare a classificare le sostanze in acide basiche o neutre a seconda del valore di pH, raccontando il valore di pH sotto il potenziale idrogeno ad una scala di valori che varia da 0 a 14. Un pH della 7 definirà una sostanza neutra, un pH minore di 7 definirà una sostanza acida e un pH maggiore di 6 definirà una sostanza idrogena. Come facciamo quindi a individuare il pH di una sostanza? Comunemente ai laboratori ci sono dei tipi già preparati, ma sono in natura degli indicatori di piazza. Ad esempio, uno di questi possiamo estrarlo dal cavolo rosso. Il cavolo viola. Questo è un buonissimo cavolo viola che facciamo in cucina. Esatto. Possiamo far bollire qualche foglia di cavolo per 10-15 minuti in acqua, filtriamo, lasciamo raffreddare ed estrariamo questo ciucco dal colore blu astro-violetto. Questo colore è dato dalla molecola antocenine. Il nostro esperimento deve avere una particolare proprietà necessitante di controllare le nostre cellule, quando ovviamente ingeriamo il cavolo, ed è una particolare proprietà di cambiare colore a seconda della sostanza con cui è presociato. Infatti le estocenine le riproviamo nei fiori, ad esempio come nelle rose, nelle peguine, oppure nella tuffa come le fragole e i fiori rossi, o ancora nella verdura come appunto il cavolo rosso. Il nostro esperimento quindi cosa consiste? Consiste di preparare un indicatore di biacca naturale da noi ed andare a verificare l'acidità, la neutralità o la basicità delle sostanze che comunemente abbiamo in casa. In questo caso abbiamo preparato aceto, acqua, bicarbonato di sodio e ammoniaca. Andiamo a vedere un po' cosa accade. Quindi prendiamo il nostro indicatore di biacca e aggiungiamo qualche goccia all'aceto. Vediamo che l'aceto cambia subito colorazione. Esatto. Questo perché l'aceto, quindi, la colorazione è rossa. Confrontando il colore con la scala di valori possiamo dedurre che l'aceto avrà un pH all'incirca di 2. Vediamo cosa accade invece con l'acqua. In questo caso ovviamente l'acqua neutro, quella che vediamo, ha quindi un pH a neutro, quindi di 7. Il bicarbonato di sodio, invece, è una sostanza basica. Avrà un pH di 8, leggermente basico. E qui vediamo che, secondo la leggenda, quindi vira un po' di più verso la sostanza alcaline. Giusto. Esatto. Infine, abbiamo l'idrossido di ammonio o ammoniaca. Anche questa è la comunissima ammoniaca che utilizziamo per gente domestica. la quale ha un pH di 11 e, infatti, questo ci indica che, come ben sappiamo, l'ammoniaca è una sostanza basica. Grazie. Interessantissima spiegazione. Grazie mille. Noi proseguiamo il nostro viaggio attraverso i lavoratori interattivi della Notte Europea dei Ricercatori. Siamo sempre in collegamento da legge e facciamo un vero e proprio tour attraverso i laboratori. Qui tantissimi esperimenti molto interessanti e qui, pensate, c'è addirittura un esperimento che riproduce un geyser. Non lo vediamo ancora attivo, ma ci prodigheremo per farvi vedere anche questo. sezio c'è davvero un episodio extra-feccio. Adesso vediamo secondo me le nostre clienti, le nostre operatori, la voglia di schiacciare questo. E' stato un frutto di alquare. E' stato un'errore di ammazzini. Il nostro animatore si è un attimo allontanato. Certo, grazie. Raccontaci cosa succede. Quindi è accaduto che ogni materiale, in particolare anche le strutture, hanno dei modi di oscillare fondamentali. In questo caso noi, attraverso il suono proveniente dalla cassa che sta alla base di questa piastra, imprimiamo delle frequenze di oscillazione. E questo che il materiale è? No, questo è sabbia. E' della cassa che c'è una sabbia. Semplice sabbia. Quindi quello che succede è che questa piastra, che è fatta di un determinato materiale, ha una determinata forma, oscilla in una determinata maniera in funzione delle frequenze che gli imprimiamo. Pertanto, ha la frequenza di 340 Hz. E' fantastico. Controlli con l'applicazione la frequenza della piastra? Sì. Con un'applicazione per il smartphone? Il suono. Perché la preparazione è un'applicazione sullo smartphone. E metto determinati suoni. E quindi il suono determina la vibrazione? Sì, il suono termine di vibrazione. E quello che succede è che la sabbia si accumula sulle parti della piastra dove non viene l'oscillazione, che diciamo in gergo vengono definiti linee nodali, dove si genera interferenza distruttiva. Ti viene in mente l'esempio e natura di questo effetto? E dove possiamo ritrovarlo? In natura... Il biondo del mare, però enorme. A momento non mi viene niente. Però è sicuramente un esperimento molto interessante perché ci dà la dimensione di come le particelle subiscono un impatto di tutte le vibrazioni e di come si possano muovere. Proseguiamo allora. Non ci vuoi aiutare anche tu per questo esperimento? Che cosa accade qui? Facciamo l'acqua di qua. Guarda, guarda, facciamo l'acqua di qua. Guarda la mamma. Guarda. Scava, scava, facciamo l'acqua di qua. C'è decisamente l'esperimento giusto per i più piccoli. Grazie. Grazie a tutti. 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 Devo dire che questo esperimento suscita in tutti la stessa sorpresa. Sì, è molto bello, è anche molto bello creare diverse piste. Tu sei una studentezza, vero? Sì, sì, sì. Di che facoltà? Di fisica. Ma non è il primo anno che ti cimenti? No, no, ero qui anche nel 2019. Abbiamo costruito insieme ai miei colleghi anche il trono di evitazione magnetica che è poco poco più avanti in questo stand. E andiamo a verlo subito. Questo anno invece abbiamo cercato di costruire questo. L'anno prossimo sicuramente sarà anche più bello. Grazie a tutti. 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 In questo viaggio tra le stelle di Dante. Viaggio tra le stelle di Dante. «Drizza la mente in Dio, grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Ma ditemi, che sono i segni bui di questo corpo che raggiuso in terra fan di Cain favoreggiare altrui? Della spera che si vela ai mortai con altrui raggio? Pigliavano il vocabol della stella che il sol vagheggia orda coppa, orda ciglio. L'oministro maggior della natura, che dal valore del cielo mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura. Ben mi accorsi io, che io era più levato per l'affocato riso della stella che mi parea più roggio che l'usato. Quando fui volto per l'ocandor della temprata stella sesta che dentro a sé mi aveva riconto. Noi siamo levati al settimo splendore che sotto il petto del leone ardente raggiamo un misto giù del suo valore. Io vidi il segno che segue il Tauro e fui dentro ad esso. Col viso ritornai per tutte quante le sette spere e vidi questo globo tal che io sorrisi del suo vil sembianto. L'aiuola che ci fa tanto feroci, volgendomi io con gli eterni gemelli, tutta mi apparve dai colli alle fuci. Bello sto viaggio che ha fatto Dante partendo dalla prima stella, la luna e salendo man mano verso tutte le altre, Mercurio, Venere, Sole, ministro maggior della natura, Marte, Giove, Saturno che abbiamo già commentato. Ma lui va oltre, arriva al segno che viene dopo il Tauro, quindi i gemelli che erano il suo segno. Quindi lui era dei gemelli, quindi passa le stelle attraverso i gemelli. Ma cosa fa da là? Come gli astronauti si volte indietro a guardare il nostro pianeta. L'hanno fatto tutti quelli che sono usciti dalla Terra. È quello che lo attrae e lo vede piccolo come lo vedono gli astronauti e soprattutto è vile, è piccolino, è tutto lì. Il nostro pianeta, quello su cui noi siamo, l'aiuola che ci fa tanto feroci per cui litighiamo uno con l'altro, visto dagli eterni gemelli, è un'altra cosa. È qualcosa di unico, tra l'altro, che noi dovremmo cercare anche di conservare. Questo è l'effetto che la nostra Terra fa agli astronauti che persino dalla Luna piangevano tutte le volte che la vedevano. Era la prima volta che un uomo era così lontano. Ma adesso dobbiamo andare ancora oltre, quindi dobbiamo prepararci a andare oltre le stelle. Dante va oltre, mi supera perché l'astrofisico mi ferma alle stelle e va a conoscere cosa c'è al di là delle stelle. E la virtù che lo sguardo mi indulse del bel nido di Leda mi diverse e nel ciel velocissimo mi impulse. Le parti sue vivissime ed eccelse si uniforme, son che io non so dire qual Beatrice per loco mi scelse. Distante, intorno al punto, un cerchio digne si girava, si irratto che avrea vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne. E questo era ad un altro circuncinto e quel dal terzo e il terzo poi dal quarto, dal quinto il quarto e poi dal sesto il quinto. Sopra seguiva il settimo, sì sparto già di larghezza, che il messo di uno intero a contenerlo sarebbe arto. Così l'ottavo e il nono, e ciasché d'uno più tardo si movea, secondo che era in numero distante più dall'uno. La donna mia che mi vedea in cura forte e sospeso disse, da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. cosa trova Dante? Passa da un qualcosa che non sa dire dov'è, quindi è tutto uguale, ma arriva a trovare i cori angelici. Quindi tanti cerchi uno dentro l'altro e all'interno di tutti questi nove cerchi, dove passa dall'Empire è uniforme e lui non sa dire da che parte Beatrice l'ha portato, perché era tutto uguale e poi trova il punto da cui dipende il cielo e tutta la natura. Quindi Dio dentro e all'interno è un punto, quindi Dio è un punto all'interno di questi cerchi. Però questo viene rappresentato sempre così da Dante e Beatrice, i cerchi angelici e all'interno dei cerchi il punto. Però da un astrofisico questo piace poco, perché pensateci, siamo andati avanti a sfere, sfere. E poi di colpo andiamo verso un punto. No, io mi aspetto che Dio sia tutto intorno, qui c'è l'Empire. Poi se Dio fosse così come lo vede lui all'interno dei cerchi, se esci da questa parte non trovi Dio, se esci da questa non trovi Dio, può essere tutto uguale questo Empireo, perché altrimenti no, devi uscire solo di lì, perché se i cerchi sono intorno a un punto, il punto è qui, non è dall'altra parte. Io mi aspetterei che Dio circondi tutto. Questo sembra strano, eppure lui dice, è chiaro i cerchi, quindi tutti lo rappresentano sempre così. Prima tutte le sfere, poi c'è qualcosa di mezzo e poi i cerchi angelici e Dio in mezzo. Lo fanno davvero tutti e io invece mi piacerebbe una sfera più esterna, ma Dante non lo dice così. E quindi è un'incongruenza che ovviamente è uno scienziato, dà un po' fastidio. Vedere questa cosa a tutti è come cambiare scena, sei di qui, sei con le sfere di qua e poi c'è le sfere intorno a Dio. Sarà così, ma forse bisogna leggere meglio Dante. Non altrimenti il triunfo che l'ude sempre d'intorno al punto che mi vinse, parendo inchiuso da quel che lì inchiude, a poco a poco al mio vedersi stinse. Quell'uno e due e tre che sempre vive e regna, sempre in tre e in due e in uno, non circonscritto e tutto circonscrive. Se ci avete fatto caso, sembra che Dante si contraddica, perché questo punto sembra rinchiuso da ciò che lui intende. Questo punto sembra inchiuso, ma in realtà è lui che racchiude tutto, va verso la mia tesi, va verso tutto fuori, ma è un punto. Come fa un punto a inchiudere tutto quello di cui è inchiuso? Ma anche questa, non circoscritto e tutto circoscrive. Ma scherziamo, è un punto? Gli altri circoscrivono il punto, il punto non può circoscrivere tutti gli altri. Però lo scrive Dante e si contraddice, peggio che mai, luce e amor, quindi Dio, di un cerchio lui comprende tutto con un cerchio. E come questo tutti gli altri, cioè sembrerebbe che è una sfera al di fuori, però è un punto. È vero, potremmo dire, tanto lo dice Dante, solo colui che lo cinge solamente lo capisce come fa a fare così. E' Dio, è inutile, non puoi comprendere Dio, quindi fermati perché lui capisce come fa un punto a circoscrivere tutto, tu, essere umano, no. Però un ricercatore questo non puoi dirlo e allora uno si impegna a vedere ma come potrebbe essere. Come potrebbe essere un punto che circoscrive ed è circoscritto? Beh, questa è un'idea interessante che si è sviluppata soprattutto nel primo secolo, quando sono state scoperte e studiatele meglio le geometrie non euclidee, Dante non le conosceva, ma forse quello che adesso noi moderni chiamiamo geometria non euclidea, l'intuizione poteva averla avuta. Guardate, quando voi fate una mappa su un Dante, ovviamente la sfera non ci sta, siamo abituati alle proiezioni. E come si fanno le proiezioni? Prendi un punto e raggi giù, vedi che i nostri, prendiamo ad esempio i paralleli, vengono uno intorno all'altro e va bene, arrivi fino all'equatore e di solito poi fai l'altro emisfero e punti dalla parte opposta. Ma provate ad andare avanti, qui ci sarebbe l'altro punto. Grazie. 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 E' una rappresentazione dei geyser che vediamo anche in natura. Questa è una sorta di struttura volcanica, ovviamente all'interno non c'è della lava, ma in natura si trovano anche della sorta di volcanico all'interno dell'acqua. In questo caso c'è un canale che noi abbiamo rappresentato con un tubo circondato da delle rocce che riescono a far filtrare all'interno dell'acqua fino a far raggiungere l'acqua a profondità altissima, a tal punto da toccare la camera magmatica. Quindi cosa succede? L'acqua inizia ad assumere sempre una temperatura maggiore, quindi ad assumere sempre una pressione maggiore. Quindi cosa succede? L'acqua cerca sempre di raggiungere il suo punto di ebollizione. Ovviamente c'è una pressione sopra dovuta dal tutto il canale dell'acqua che la porta ad avere sempre una pressione e una temperatura maggiore fino al punto che riesce a uscire da questo canale e a riuscire a evaporare. Ovviamente questo fenomeno lo vediamo attraverso lo scruffo che si vedrà. Abbiamo visto che ha un tempo di ricarica, un intervallo in cui dobbiamo aspettare che l'acqua forse raggiunga nuovamente lo stato di ebollizione. Sì, sì, la temperatura è giusta e la pressione è giusta, più che riesca a evaporare. Bene, tu sei una studentessa, una dottora? Io sono una studentessa, sto studiando fisica e sono all'altiennale. Bene, ecco è la prima volta che parteci qui all'anno. No, in realtà già dal primo anno mi sono inserita in questo gruppo molto interessante, mi sono affacciata al mondo della ricerca e ovviamente della propaganda della scelta. Allora, se dovessi invitare altri ragazzi a partecipare a questo evento che effettivamente è una cucina di sapere, è coinvolgente, c'è tantissima gente, è un vero magma di scienza. Cosa racconteresti ad altri colleghi dell'università? Perché li inviteresti ad essere qui? Ma io credo che il mondo della scienza sia un mondo che ti fa un po' sognare, ti fa meravigliare come ad esempio vedere uno sbuffo, magari non sapere cos'è, magari interessarsi, insomma scoprire del perché succedono alcuni fenomeni. Quindi come il geyser lo possiamo trovare negli Stati Uniti, ma anche altri fenomeni come gli altri compagni stanno andando a dimostrare del perché succedono alcuni fenomeni. Ecco, il bello di questi esperimenti è che vediamo riprodotti su piccola scala, quasi in laboratorio, dei fenomeni che avvengono realmente in natura. E quindi questi ragazzi che sono intraprendenti e tutti brillantissimi riescono a spiegarci in modo davvero accessibile che cosa accade in natura e a riportare questi argomenti ad uno stato completamente affascinante, insomma, possiamo dirlo, possiamo dirlo. Continuiamo il nostro viaggio. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie. Allora, qui c'è un'aspirazione che prima ci siamo persi, secondo me sarebbe bello a te condirla. Noi siamo in diretta sul canale ufficiale della Notte d'Oro. mea dei ricercatori e salutiamo tutti questi ospiti che sono qui. Non vogliamo interrompervi, vorremmo però assistere anche noi alla spiegazione. Siamo con? Angelo Leo. Ciao, Vanno. Ci racconti un po' di questo esperimento, magari guardate in più su di te se di studente? No, no, sono un assegnista. Un assegnista di ricerca. Che cosa accade qui? Allora, questo è un dimostratore appunto che fa riferimento alla realtà aumentata, per cui ad un determinato stimolo chiaramente ne corrisponde un altro piuttosto simile. quindi sostanzialmente si tratta di utilizzare o meglio di far variare il livello della sabbia o meglio di avere una corrispondenza tra il livello della sabbia e il colore della sabbia stesso, ripercorrendo quindi le varie curve di livello, per cui è possibile ottenere quindi delle montagne nel caso in cui l'altezza sia maggiore, oppure si può visualizzare fondamentalmente il mare nel caso in cui si scavia abbastanza. Come si utilizzano un akinet e un proiettore. Ecco, vediamo che questa mia profezione è lupina. 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 Che cosa stavi facendo? Spiegami un po'. Quando si muove la sabbia percepisce e cambia colore. E cambia colore. Perché? Che cosa accade? Quello che accade è che appunto viene acquisito un singolo livello, ogni singola altezza della sabbia e quindi viene fondamentalmente come se questa distanza di sabbia si era una matrice. Per cui ad ogni singolo quadratino, ogni singolo elemento di questa matrice corrisponde un determinato di rendimento di un'altezza. Questa altezza viene acquisita da una macchinetta e viene associata. Ok, quindi se adesso io tuffo la mano, come stavamo facendo un'altezza prima, e sposto questa sabbia, vedo che cambiano i colori. Sì. Forte. E questo è grazie alla percezione che ha, diciamo, il sensore su rispetto anche al livello delle sabbie. grazie. 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 Perfetto, non ci sono. Certo, che magari ci puoi illustrare che cosa accade e abbiamo un volontario che ci dicempa. Un volontario che si allega a un fisico pure e lui. In realtà è un gioco di partizia di partizia perché in genere lo prendono due per sfera uguale. Un'altra è più, la offendedale. Se una si lascia cadere è quello che succede che apparentemente la sfera cade, però in realtà ci mette un po' di tempo per andare all'altra parte. Quindi cosa accade? Si crea un attrito? Un attrito è un attrito ma un attrito elettromagnetico, cioè si crea un campo elettromagnetico indotto che impedisce la caduta rapida dell'oggetto. La cosa nascosta è che questa non è una sfera di ferro normale, questo è un magnete insomma, un magnete permanente. E qui dentro si creano dei campi indotti che determinano questo effetto. Quindi c'è un trucco? C'è un trucco. C'è un trucco, ma non si vede. Allora, intanto chiedo a questo punto al professore di prenotarti perché siamo in diretta sul canale ufficiale dell'elettromagnetico. Mi chiamo Marco Panareo, insegno elettromagnetismo, dipartimento di matematica fisica. Bene, allora abbiamo beccato il volontario giusto insomma. Noi attendiamo il magnifico rettore dell'Università del Salento e nel frattempo continuiamo a fare un giro tra i nostri laboratori. Sì, ma abbiamo visto il primo dicembre. Andiamo. Il treno è armatore pure. No, il treno motore ci manca. Mi sa che forse possiamo dedicarci anche al treno motore. Allora, il treno è anche. Ci manca questo e il treno. No, siamo di nuovo qui. Come avete visto il treno è la macchina a favore. Esatto, ci manca la macchina a favore. La emissione aumenterà ad un livello tale da permettere il movimento di questa ruota si arriverà ad un moto, ecco ci siamo quasi, un ciclo tale che si auto alimenta tramite, quindi stiamo andando a trasformare l'energia chimica che si ha all'interno della barretta combustibile in energia meccanica rotazionale. Sì, esattamente quello che fa un treno a favore. Esatto, questa è una macchina a favore funzionante. È un modello simile a quello che inventò James Watt nel 1700. Riprodotto in scala ritorno. Già, giù. Allora, come si intende? Un'altra, no, volevo solo aggiungere un'altra piccola mozione teorica in cui questo spiatatorio serve appunto per diminuire la pressione all'interno della cisterna e quindi andare a regolare la velocità di rotazione, quindi la velocità appunto di questa rotazione meccanica. Infatti se la apro ti blocco immediatamente. Quando la pressione è molto alta, alzando la valvola si va ad abbassare la pressione appunto e quindi la velocità di rotazione. Grazie. Grazie per l'attenzione. Se continuiamo con il nostro piatto tra i laboratori, no, per rafforzare i laboratori, no? Seguite, ragazzi come vedete c'è tantissima data e devo dire che sono tutti davvero presi dagli esperimenti. Sì, abbiamo dei ragazzi preparatissimi che illustrano tantissimi interventi. E per esempio, abbiamo un esperimento in corso. Cerchiamo di capire di che cosa si fa. Ciao, siamo in diretta sul canale ufficiale della Notte Europea dei ricercatori. Noi stiamo facendo un bambetto per i bambini, stiamo proponendo vari esperimenti, diciamo, che vanno dai bambini nella scuola elementare, scuola media. C'è un bambetto di riempito di acqua, di gira, ma non è un bambetto di cuore. Oppure qui stavo facendo vedere la capitola di proprietà della... Ah, quindi l'acqua non fuoriesce. Ah, esatto, sfida la legge della gravità. E come mai? Questo perché... Adesso cadrà. La pellicola che viene messa, semplice carta, bagnata, crea una sorta di vuoto all'interno del baratto. E quindi questo, in un certo senso, la mantiene incollata al barattolo stesso e impedendo quindi all'acqua di uscita. Ecco, uno degli aspetti, diciamo, più particolari di questo evento è la possibilità di avere laboratori dedicati a tutte le età. Visiamo appunto che questo è un laboratorio dedicato ai bambini che vanno da una fascia d'età, possiamo dire, compresa tra i 5, 6 anni, 10 anni. E questo perché, in particolare, per sensibilizzare alla scienza, anche per i bambini, e in maniera tale da abituarli già da quando sono piccoli a fare esperimenti, appunto, a fare scoperte, a interessarsi appunto alla ricerca. Perché comunque la ricerca è alla base delle scoperte che si avranno. E' bello vedere come i bambini si appassionino e siano, tra l'altro, particolarmente particolari. Ma questo è un burcato? Questo esatto, sì. Diciamo che noi lo chiamiamo Fire Sneak, l'abbiamo ribattezzato così. Adesso è spento, ma alla base c'è della sabbia. Nel bicarbonato aggiungiamo il bicarbonato e il zucchero. Adesso lo accenderete. Con dell'etanol, dell'atto, diciamo, gli diamo poco. E la reazione produce, praticamente, dei carbonati, che è la parte nera che vediamo, e anche il CO2, quindi la nitride carbonica, che quindi è gassosa. E in pratica crea questa struttura che all'interno è buota, che è appunto porosa. E questo dà questo effetto appunto di espansione, del polpumetto, diciamo, del composto nero che si viene a formare. E quindi mi riesce a non aggiungere. Grazie, ci ricordi il tuo nome? Sì, io sono Francesco. Adesso sono ricercatore, ho un'assegna di ricerca a CNR, qui a Lecce. Bene, e in che campo? Adesso sto lavorando nel campo della microelettronica e del microsistema. Grazie, fantastico. In bocca al lupo allora per il tuo lavoro. Grazie mille. Grazie. Allora, andiamo avanti e cerchiamo di individuare qualche altro laboratorio. poca. Posta. Vediamo che da però io non gli assicuravo. Ma non lo conoscerò, ma non lo conoscerò. Ah, è del Sottolazione di ricerca. Dio, Sottolazione di ricerca. Dio me. Istituto di microelettronica e microelettronica. Ciao. Tu sei? Tonio. Buonasera. Buonasera, ti ha QBD? Sono soggettista di interfaccia elettronica per sensori. Caspita, sembra interessantissimo. Cosa sono qui? C'è tanta gente molto appassionata a questa... Sì, essenzialmente questo è quello che faccio io. Questo è quello che faccio ogni giorno. E deve dire, diciamo, le competenze che abbiamo di sviluppo di circuiti, infatti con il sistema MP4, essenzialmente guardate, sono queste schede, questi si chiamano circuiti stampati, e in pratica sono come microcomputer, che superattimizzano, acquisiscono segnali molto velocemente. Noi riusciamo addirittura a soggettare da, per esempio, qui andiamo, quello che è il circuito intero, in cui ci sono tutti i dispositivi, tutti compressi, all'interno, all'interno, all'automunale. Dove li ritroviamo solitamente nella vita quotidiana utilizzata? Forse li usiamo dappertutto. Noi usiamo continuamente chip, iconi, tv, auto, dappertutto. Sono presenti veramente dappertutto, quindi è molto importante studiare il funzionamento, studiare il modo con cui li progettiamo. E noi a Lecce facciamo anche questo. Quindi utilizziamo tecnologie molto avanzate e complesse per la realizzazione di questi circuiti. Bene, sembra davvero interessante. Grazie per averci anche dato l'opportunità di avere un insight, vero e proprio, cioè di entrare dentro. Solo un insight. Ecco. E entrare dentro, diciamo, e di guardare, di avere una prospettiva diversa da quella che abbiamo solitamente. Allora, qui siamo insieme a Gertrata, anche a Crescia. Sì, io sono, diciamo, lavoro insieme. L'esperta che si occupa, appunto, della teoria che c'è dietro. Sì, diciamo, Dottor Donia, diciamo, è un ingegnere elettronico che per noi si è dedicato a sviluppare varie soluzioni di imputazione tecnologiche per gli sposi di vita. Perché nel nostro laboratorio sensori sviluppiamo sensori di chimici, di gas, veramentemente, di dispositivi che riuscirono tanti sensori per essere utilizzati. L'abbiamo usati in passato per il monitoraggio della quantità dell'aria e per l'angrofrutto. in qualche modo è nascoste ancora, perché sono parametri non chimici che andiamo a misurare per indagare eventuali marker molecolari, in questo caso uno stato volatile, di patologie. La tecnica, diciamo, l'entusiasmo è perfetto anche per queste metodologie di analisi dei DOC, di Ocran, di Ocran, di Ocran, di Ocran, di Ocran, di Ocran, di Ocran. Di Ocran precoce. Di Ocran, di Ocran precoce. Si può ancora eliminare quanto ancora, diciamo, la malattia non è fatta molto devamata e si può ancora finare, cioè, deviare il testo. Non so, ma oltre alla diagnostica specialità, che diciamo, che utilizza sempre questo tipo di analisi, abbiamo fatto delle missioni di recente di bio-monitoraggio umano e mi siamo andati a monitorare dei soggetti sani che vivono in aree fortemente contaminate, terra del fuoco, valle del sacco, sono zone note dove c'è una forte incidenza. Abbiamo anche in un futuro progetto che speriamo che venga approvato, in funzione di analizzare ad esempio la zona di Tò e anche una zona turistica, quindi per monitorare aree a diversi tipi di mutilamenti. Quello che abbiamo risultato da questi primi studi pilota che guardano il mio monitoraggio è che effettivamente i soggetti che vivono in queste giovani, proprio parliamo di ragazzi di sciopelli, hanno dei fondi filo seminari fortemente degradati o sono risultati allo stesso programma e noi lo ritiriamo tramite le nostre analisi. Ne si può dire che la grassifica e distingue chi non ha problemi perché ha problemi o che distingue anche il fattore di rischio da persone che vivono in aree diverse. Analizziamo la salina, analizzeremo forse anche la saliva, ci verrà tornata. E quindi siamo entusiasti perché si percepisce, devo dire si percepisce ed è contagioso se posso dire perché è un entusiasmo positivo per un'attività di ricerca che tra l'altro è legata anche alla salute umana, quindi questo è un aspetto importantissimo. ho visto che lei prima era impegnata in un altro laboratorio. Le va ad illustrarci qualcosa un po' più da vicino? Sì, riguarda diciamo quello che le occhie di... Salve, siamo in diretta sul canale ufficiale della notte dei ricercatori, solo per avere un overview su questa laboratorio, potete tranquillamente aspettare, perché non ho chiesto anche noi azione rispetto a quello che è stato detto. Allora, questi abbiamo i nostri mimoni di protei che abbiamo usato, sono stati recentemente, sono stati estremati e finiti in tale, è un premier che noi facciamo dai corpi umani di vari biocampioni e in un rapporto non stesso e anche con il chimico tramite la nostra analisi, perché riusciamo a monitorare la dose interna di contaminazione che è dovuta all'infinamento ambientale. Quindi tramite gli studi di biomonitoraggio umano riusciamo a vedere, in qualche modo, ad avere un'informazione diretta, più vicina a dei quanti ambientali che si impatta sulla salute. Quindi, dalle analisi di vari biocluiti che noi campioniamo, che non hanno l'infinamento, sono di riuscire a trovare dei marcatori volatili, in questo caso particolare, dell'infinamento ambientale, in questo senso il corpo va nel senso chimico, ma anche di stadi precoci della malattia, come dicevamo prima. Il dispositivo, le metodologie che noi facciamo appunto, che ho dire, imprese da moratori sensori, sono sia la nuova tecnologia che riguardano il naso, che coinvolgono il naso elettronico e che metodologie classiche, diciamo, che però permettono l'analisi anticanalitica. Abbiamo un gastro-matografo che ci dice che il nostro naso elettronico analizza. Quindi abbiamo sia, diciamo, due metodologie alimentari che permettono di creare sostegno di gente a distrato per una diagnostica prevenzione, oppure per il monitoraggio umano per vedere la relazione dell'ambiente. Il dispositivo ha il vantaggio di essere portatile e compatto, anche da un operatore sanitario, localmente, o in un laboratorio specializzato. Quindi si parla della medicina del futuro. Mi diceva che forse fa un altro po' il risultato, quella che è l'intimidicina, che è anche un incentivo su tutta la situazione Covid, chiaramente. Non so se il collega che ha illustrato dall'alto tendere ha illustrato i risultati di un progetto che ha avuto problemi respiratori cronici. Abbiamo sviluppato un dispositivo che è piantato proprio al letto del paziente, che in conseguenza di questi problemi cronici respiratori deve respirare tramite un apparecchio di ventilazione assistita. Sono situazioni di malattia molto grave. il dispositivo che è collegato alla frecchia, in qualche modo tramite il tubo in cui un paziente respira, perché da solo non può rubarlo, ricampiona l'ispirato. In modo automatico viene deviato e il nostro dispositivo elettronico, che è quello che si sente fisicamente nell'alto tende, analizza sempre tramite dei sensori di gas e i parametri. Ma quale si dice, le carbole, che sono i gas respiratori principali, ma anche quei composti organici volatili che sono presenti nell'ispirato e che sono, diciamo, continuano un'informazione tutta da interpretare, un'informazione clinica molto importante sul ricorso della malattia. Analizzando questi tracciati di questi sensori si può vedere se il paziente sta presentando degli stati di esacerbazione della malattia e quindi se qualcuno doviene. Certo. Quindi monitoraggio e controllo. Monitoraggio e controllo del paziente. Davvero sembra il futuro, invece, già qui, insomma. Invece, già un progresso a portata di mano tangibile. Sì. Veramente, veramente un bellissimo traguardo. Grazie, dottoressa. Ci aspettiamo perché stiamo alla ricerca del Rettore. Quindi vediamo capire se... Non manca con salutare. Non manca con salutare. Sì. 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 Dicola, è un particolare di fabbricazione aditiva., quella che comunemente diciamo, è chiamata stampa 3D. Che cos'è l'industria 4.0 ultimamente, ne sentiamo parlare parecchio, se sono anche parecchi investimenti e la quarta evoluzione dell'evoluzione dei processi industriali, in particolare la quarta rivoluzione industriale è caratterizzata dalla fusione dello spazio fisico con lo spazio digitale, con lo spazio pervaso da internet, quindi c'è la fusione tra questi due mondi che sono sempre più strettamente connessi e dialogano fra di loro, l'industria 4.0 ha tra i suoi elementi chiave i sistemi cyber fisici, l'internet delle cose, l'internet dei servizi e la fabbrica intelligente, sono le tecnologie di base che la caratterizzano, l'industria 4.0 come può entrare in relazione con l'architettura, è un po' questo quello che ci siamo chiesti, è come può influenzare il progetto di architettura e la realizzazione dell'architettura stessa. Questi principi in realtà si possono sposare molto bene con la rivoluzione digitale che è avvenuta negli ultimi anni in architettura e quindi abbiamo una serie di processi come la virtualizzazione e la personalizzazione di massa, cioè la possibilità di produrre pezzi non più basati sulla produzione di massa, quindi sempre uguali, ma pezzi sempre diversi e calibrati secondo delle esigenze specifiche dell'utente, del committente e tutte queste tecnologie possono darci la possibilità, possono dare la possibilità a noi architetti, a noi progettisti di interpretare in maniera diversa il progetto come andremo a vedere. Quindi industria 4.0 e architettura possono dialogare e lo possono fare principalmente attraverso la cosiddetta virtualizzazione del progetto, cioè la capacità che abbiamo con il computer di creare nell'ambiente digitale la nostra architettura che poi può essere grazie a processi di fabbricazione, a controllo numerico e quindi controllati dal computer possono diventare realtà, fino ad arrivare alla virtualizzazione del processo produttivo, quindi l'architetto che entra all'interno dei processi produttivi e può dialogare con questi processi. Il pilastro fondamentale su cui si basa questo tipo di relazione è la cosiddetta fabbricazione digitale, cioè la possibilità di trasferire un oggetto tridimensionale che noi abbiamo concepito con il computer nel mondo fisico attraverso l'aiuto di alcune macchine che possono essere le macchine che troviamo in un laboratorio di fabbricazione digitale, fino ad arrivare alle stampanti 3D che iniziano a diffondersi sempre di più anche nelle nostre case. La cosa interessante è che questo tipo di processo in realtà si sposa con qualcosa che già avveniva in architettura, che era la cosiddetta prefabbricazione, cioè la fabbricazione preventiva prima di arrivare in cantiere e questo ci fa comprendere come la cosa importantissima di questo nuovo tipo di relazione tra industria e architettura è il concetto di previsione, cioè la possibilità che noi abbiamo attraverso l'utilizzo del computer e delle tecnologie digitali di prevedere tutto il processo di progettazione ma anche di fabbricazione di costruzione a monte prima di arrivare in cantiere e questo è importantissimo non tanto per la libertà che può dare al progettista di controllare il progetto ma soprattutto dal punto di vista della sostenibilità perché noi siamo in grado così di creare quei processi migliori che possono avere meno impatto dal punto di vista dell'inquinamento, come sappiamo l'industria delle costruzioni è una delle più inquinanti tendenzialmente, quindi in questo modo noi con la capacità che abbiamo di prevedere tutta una serie di operazioni e di calcolarle meglio possiamo appunto ridurre questo impatto e quindi migliorare la sostenibilità dei nostri interventi. E come vi dicevo in particolare in questo mio intervento parlerò di fabbricazione additiva e lo farò attraverso un esempio che vi mostrerò più avanti, la fabbricazione additiva che cos'è? È abbastanza intuitivo, diciamo che il termine più noto che è conosciuto è la stampa 3D, la stampa 3D non è altro che la stampa che noi conosciamo sul foglio applicata ad un oggetto tridimensionale, quindi strato dopo strato l'oggetto si materializza fino a concretizzarsi nella sua fisicità. Questo è il primo brevetto della stereolitografia di Chuck Hall del 1986, da questo momento in poi c'è un'evoluzione incessante che arriva fino a noi, con la stampa 3D possiamo fare tantissime cose, possiamo fare artigianato digitale, possiamo addirittura fare la pasta, la pasta stampata in 3D, ma possiamo fare anche cose più serie, tra virgolette, possiamo ricreare delle parti, ad esempio dello scheletro umano, oppure dei componenti meccanici molto precisi, oppure dei gioielli, quindi dare sfogo alla nostra creatività. se pensiamo invece al mondo delle costruzioni e dell'architettura abbiamo diverse possibilità di utilizzare le tecnologie di fabbricazione additiva all'interno del processo costruttivo e di progettazione. Le due principali che ho rassunto qui sono material extrusion e binder jetting, sostanzialmente cambia poco, nel senso che il material extrusion è caratterizzato da un ugello che distribuisce del materiale che poi si solidificherà e creerà l'oggetto, mentre il binder jetting è una tecnica che è molto simile alla tecnica di stampa delle stampanti che noi conosciamo perché stampa invece dell'inchiostro un legante, quindi un materiale che lega, un materiale sciolto, delle polveri, quello che può essere un letto di polveri, lo solidifica e lo fa diventare un oggetto tridimensionale. Dal punto di vista concettuale abbiamo la possibilità di utilizzare questo tipo di tecnologia per creare o degli oggetti monolitici, quindi stampati in una sola volta, in una sola soluzione, oppure per blocchi. È chiaro che guardando anche in pochi anni quella che è stata l'evoluzione della precisione di questa tecnologia possiamo comprendere come ormai sia abbastanza matura per essere utilizzata nel mondo delle costruzioni, perché? Perché il mondo delle costruzioni notoriamente ha bisogno di precisione, perché la precisione è sinonimo poi di efficienza e di efficacia della struttura stessa. La cosa interessante è che grazie alla stampa 3D vengono meno dei limiti, quei limiti che derivano per esempio se dobbiamo, questo è un esempio sviluppato da uno studio che si chiama AROP, uno studio di ingegneria molto importante. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.